Madonna che musica incredibile, ho sbagliato, va bene, ciao, che bella, madonna, voglio giocare a CTR, che bella, no, dopo si gioca un po' a Crash 3, si va un po' avanti con le prove a tempo, anche se oggi è venerdì, non doveva esserci live, ma siccome non c'è domani, perché sono fuori, quindi c'è stasera, come state? Scusate, stasera live chillino, ho detto un po' alle prove a tempo CTR e si guarda dei video, che ho da vedere alcuni video, ma così, se volete, se no me ne vado, me ne vado, non è che ha acceso il cactus, perché, è già tre volte che lo dico, che questa è l'ultima live qui in soffitta, prima o poi sarà davvero l'ultima live in soffitta, però va bene, io sto bene, guardiamo altri divani? No, oggi niente divani, oggi mi apro che ho cardo, divani no, poi si vede, poi devo ancora decidere, ma non so, mi sono lavato il viso, sono di nuovo sudato, ormai è così, è la dura legge del caldo, del caldo che sta arrivando, oggi era veramente caldo, ormai non ci crede nemmeno il cactus, sì, è l'ultima live, vabbè, è che ci vale un po' a capire come mettere tutti i tavoli, ragazzi, esiste un sito per poter fare la planimetria? Si fa insieme, se te, Kylo, che sei un architetto, no, non sei, no? Vabbè, accendo il cactus, dai, sennò davvero, non mi guardare il culo, non mi guardate il culo, cactus e accendo anche questa, all'altro, ho appena comprato, su Amazon, proprio prima di far la live, come tanto, spende, sordi, o sì? Così, no, spende, puttale via, così, una lampada per lo studio, una lampada, eh, led, RGB, alta, sai di quelli a steccolino, no? Tutta colorata, vedo l'ora, visto che volevo prendere una lampada tipo questa, cortele a mano, ho detto, no, le prendo una belle belle, cortubo, belle così, la mette in un angolo, sai, perché comunque c'è bisogno di colorare. Sei architetto? Eh, e allora, non c'hai un sito per poter fare una planimetria di una stanza? Che ne ho visto 2000, ma trovarne uno buono. Metti blender? Sì, metto blender, ora metto blender a posto di fare una stanza, più cazzo, c'è piuttosto che prendo un foglio di arte. Un sito non ne conosco. Eh, vabbè, hai visto gli ultimi video su YouTube di Dario Moccia? No. Che video ha fatto? Non lo so, uso Archicad, autocad, vabbè, autocad lo usavo anche alle superiori. Sentirà che... Allora, andiamo un po' a vedere sti video che c'ho da vedere, vediamo un attimo. Tanto aspettiamo che la gente arrivi stasera, secondo me siamo meno di 30 stasera, ma non me ne frega un cazzo, mi sono rotto i coglioni. Va bene così, allora. Allora, vediamo un po'. Allora, ok, questo l'ho visto, lo levo dal guarda più tardi, questo pure. Questo pure, allora, questo no. Ah già, questo ce l'ho a vedere. Ah, ok, questo qui, questo qui che ha tirato fuori Valevitis nel gruppo dei sub prima. Molto interessante, vediamo un po'. Da quando è finito viene Archimney? Eh, venga Archimney, cosa ci venga? Ma ora no, un po' sono da Archimney, ora. Sono là. Ma che alzami presto un mattino. Archimney, no, 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 no. Qualche volta si va. Archimney è un pub qui, appunto, è vero. Ciao Enrico, BlackDragon98, ciao. Dobbiamo vedere il Reddit, è giusto? Non credo ci sia roba sul Reddit. Ah, avete visto il video di oggi? Ah, via, vloghettino. In realtà l'ho fatto più per necessità, che sennò YouTube davvero mi ammazza. Però, insomma, mi sono un po' divertito a farlo. E, momento Pingu? Tocchiamo la musica. Momento Pingu? Sono io. Ma sono io? Sul Reddit ci sta poco... Sto giocando con la palla qui insieme al mio amico Farley. Ma la palla è andata nel buco e lui li ha corso dietro. Potresti salvare il mio povero amico Farley? Ti prego. Ma poi non era lei che diceva sto... No. E lui fa... La mia vita adesso non ha più alcun senso. Ma poi questa è vecchia, Staroy. Non è di questi giorni. È mesi fa. Manni, forse. Vabbè, comunque, trattamente non era neanche questo il pezzo del gioco. Comunque, bellissimo. Questo è qui. Va bene. È il momento, cringe. Allora, vediamo questo video di Valevitis. Non c'è Valevitis nel video, ma è praticamente l'annunciamento, l'annuncio, di Disney Dreamlight Ballet. Non so cos'è, vediamo. L'annuncio è un mondo del sogno, in cui amici familiari, da più heroiche, da più villainousi, vivono insieme in harmonia. Ma poi, quando il tempo passava, l'annuncio si trattava in, e il mondo si trattava in oscura. Sì, tu arrivi. Tu hai il potere di farlo speciale. Sì, tu hai il potere di farlo speciale. Sì, tu hai il potere di farlo speciale. Sì, tu hai il potere di farlo speciale. E che la tua creatività rai. Questo è un posto dove ogni giorno è un sogno come true. Questo è Dreamlight Valley. Learn more at DisneyDreamlightValley.com Ma cos'è? Cos'è un free-to-play? Cos'è? Dreamlight Valley. La valle delle luci dei sogni. Il sogno della luce. Sogno a luce valle. Cos'è? Non è un gioco che voglio giocare. Sì, sembra una specie di The Sims. Però non è The Sims. La valle del cazzo. Sì, dopo Crash. Stasera Crash vi fa un po' di Crash 3. Però prima si guarda The V. Madonna, ragazzi. Io sono lucido, proprio. Vabbè. Secondo rumor dovrebbe essere simile a Animal Crossing. Leggi su. Sarebbe bello, ma invece... Ma non sei al chimney. Guardi i video al chimney. Beh, la sonora... Hai mai avuto il Covid? L'ho dribblato! Secondo me l'ho avuto e non lo so. Probabilmente sono stato asintomatico. Ma non mi è mai capitato di dove fa tamponi. Quindi non lo so. Però non sono mai stato male. Statisticamente l'ho avuto, di sicuro. Però non si saprà mai. Puoi provare SketchUp? SketchUp online. Però non l'ho mai provato. È fatta a Gameloft, quindi un Gino Mobile. Eh, ma infatti. Sembra proprio un Gino Mobile. Però con una grafia un po' più... Vediamo un po'. SketchUp. Prova SketchUp. Dove le idee diventano... No, non mi voglio registrare. Progetti personale. Non mi voglio registrare. Inizio a modellare. Strumento di modellazione. Ma non voglio modellare 3D. Voglio fare una planimetria. No, mi devo registrare. Non mi registro. Non mi registro. Mi dispiace. Non mi registro. Lo faccio con un foglio di carta. C'è un sito dove ti puoi disegnare? Allora, Draw Online. Auto Draw? No. Ci deve essere un sito. Eccolo! Start... Non ci credo! Non ci credo! È meraviglioso! Ho sbortato! Ho sbortato! Nuovo format! Nuovo format disegnare in... Con la I di la Disney. In live! Olè! Ragazzi, io la E la faccio come logo Walt Disney perché io da piccino ho iniziato a scrivere emulando il logo Walt Disney. Quindi io scrivo con il fonte della Disney. Ve lo dico. Paint non ti piaceva? E... Ce l'ho Paint qui? Su questa... Su questo... Ah, ce l'ho Paint su questo Windows. È vero, c'è Paint. Però guarda, è più bello questo sito qui. Paint mi fa schifo. È più bello. Allora, benvenuti! Nuovo format disegnare in live. Allora, cancella tutto. C'è un modo di cancellare. Seleziona. No! No! Posso spostare le lettere! Ma è meraviglioso! È la cosa più be... Posso selezionare tutto? Non ci credo. Non ci credo. Cioè, quindi io posso fare dei disegnini e animarli? Cioè, posso disegnare Vito? Posso fare un disegno... Questo è... Allora, vi racconto la volta in cui io e Vito ci siamo visti per la prima volta a mangiare una pizza. Questo sono io che saluto Vito che è arrivato... Vito lo disegno con il naso di Topolino, però. Il naso a palloncino di Topolino. Questo è Vito con la camicia... Stavolta il colletto, questo è... No, no, no. Facciamolo meglio il colletto. Vito aveva una camicia rossa, se non sbaglio. Può darti che... Cioè, si è presentato... Allora, Vito non è snello come me. Ai tempi, ai tempi. Ora non lo so. Facciamo un... No, troppo, troppo, troppo. Facciamolo... Così, dai. Così, così. Yotobi da mocia. Andate dai, Yotobi. Da mocia, anzi. Col piedini, col piedini. Con la cosa. E i pantaloni, così. E... Lui arriva dalla metro e mi fa... Con i capelli di Vito e mi fa... Aspetta, lo animo, lo animo. Io ero lì a aspettare alla metro e lui arriva. Super ciao! E poi io... No. Devo selezionare solo me stesso. E io lo saluto. Ciao! Stritto di mano e andiamo a mangiare la pizza. E... Aspetta. E... Insieme andiamo a mangiare la pizza. Basta. Questo è il riassunto di... Nuovo format. Molto faticoso, ma... Nuovo format. Va bene. Vi è piaciuta questa... È vero, eh. Lui ha detto super ciao. Me lo ricordo. Ho proprio il fotogramma impresso nella mia mente. Ero alla stazione di... Di... Colonio Sud. E lui arriva. Quindi super ciao! Vabbè. Un'animazione degna del premio Mamosker. Preferisci disegnare Crash 4? Disegnare Crash 4. Giochiamo a Gartic Phone. Non so cos'è. Si è visto il Reddit? Sì. È molto bella la storia della vostra grande amicizia. Quando avrei cringiato è un po' cringiato ma perché non lo conoscevo. Se l'avessi conosciuto non avrei cringiato perché avrei detto cazzo. Eserico disegna la storia. Allora, ora mi avete incuriosito. Voglio vedere se davvero c'è Dario Moccia su Yotobi. Cioè, Yotobi di Dario... Un attimo. Si guarda un attimo. Veloce, ma mi avete incuriosito. Disegna il logo di Mumpalig. Il genere. C'è Yotobi davvero. Standard. Ma lo sai che dal 20... Victor Laszlo ovviamente non può non essere presente. Reddit è incredibile. Sabaco, va bene. Noi torniamo ai nostri cazzi. Allora, la mia stanza... E purtroppo non sarà in scala perché... Cos'è sta cosa? Cosa cambia? Ce n'è. Uno con le stelline e uno senso... Autodraw e draw. Facciamo autodraw. Quindi... Cosa cambia autodraw? Non è vero che autodraw. Cosa cambia? Oh, cambia il cazzo. Draw? Qui ti fa anche... Ma è meraviglioso questo sito. Si chiama autodraw.com. Non so cosa cambia fra autodraw a... Forse perché vede la pressione. Non credo. Non credo. Ah, puoi cambiare le cose. Ah, vedi, vedi, vedi. Puoi far diventare un disegno. C'è una linea, qualsiasi cosa. Bellino. 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 Vabbè, non mi interessa. Disegnavo la stanza. No, non così massiccio. Non così massiccio. Allora, la stanza è più o meno... Non sarò mai preciso. Così. Più o meno così. È più o meno. Praticamente Paint Online. Sì. Mi sono ferito mettendo la mano dentro il case del pc. Risco qualcosa di quel tetano. Eh, sì. Non lo, non credo. Il video il filo rosso, come lo realizzasti? Con la tavoletta grafica e Photoshop e After Effects. Miglior costo animato? Quando... No, quando mi incontriamo Paolo. No, non l'ho più visto. Non so che se non mi è scappato. Disegna il logo di Wumpa League. Non mi ricordo. Allora, il logo di Wumpa League com'è fatto? Così. Qui c'è un Wumpa. Così. E poi ci sono delle frecce, se non sbaglio. Così, vero? Non mi ricordo il logo di Wumpa League. Chi se ne frega. Grazie, Nicola. 04. 12 mesi. Un anno. Complimenti. Complimenti per la sincerità e per la costanza. Hai letto la descrizione della tua carta su Reddit? Sì. Allora. La stanza è così. C'è una porta qui, una porta qua, una finestra qui e una porta qua. Capito, no? Così sapete bene anche come venirmi a rubare. Cosa mi consigli fare per abbassare la temperatura? Perché il Covid è tachipirina, dei prendi. Allora. Questa è la parete grigia. Vedi, ci faccio questo coso così in prospettiva si vede la parete grigia, no? La mia idea era mettere il divanino qui. Però no, non lo so. Non so se mettere, per esempio, la schivania così, madonna, con la sedia qua, il computer qua, e rendere questa la postazione streaming. Cioè che si vede l'angolo. Vedi? Magari con un altro tavolo qui, non lo so. Due facce, una bruna, una arancione, certo, ok. La schivania storta. Eh, non è che è storta, non è in scala, non è storta, è diversamente, non ci riesco a fare le osse diritte con il mouse, dai. Dai, un po' di fantasia che vuoi, no? Così, così va bene. Draw io per fare schemi, draw io, draw io, draw io, cos'è? Draw io app, questo? Diagrammi, try for free. Se mi fa registrare, non mi registro. Atlassian, eh, mi sa che mi fa registrare, try for free. No, non è, no, non è, cos'è sta roba, no? Va bene. E, non lo, non lo so, non lo so, non lo so, vediamo, perché il fatto è che io vorrei anche mettere, non lo so, cioè, questo divano deve essere fatto in modo che io, quando c'è Vito o da solo, io possa effettivamente giocare a una, a qualcosa, quindi il divano messo così non ha molto senso, perché, eventualmente la prestaggia ce l'ho qua, qui tipo, no? Con lo schermo qui, o qui, per dire, Quindi, come faccio io se Vito viene qui o chiunque altro viene qui, come faccio a far sì che lui veda questo schermo? Non si può, o metto degli specchi o metto una televisione qui, però se metto la televisione qui, come si fa? Il divano dietro la schivania, esatto, quindi, è un problema, a meno che, c'è anche questa possibilità, ma è veramente tosta, effettivamente qui non ci metto una televisione, la PlayStation in una, il cui segnale va sia qui che qui, con uno switch, capito? Questo è già più fantascienza, prima cancella tutto, se invece, io metto, non lo so, non lo so, hanno detto che Naughty Dog sta lavorando un remake, che cosa potrebbe essere nessun remake? Illustra anche a me che sono appena arrivato, oh buonasera, raschiata, così non sembrava male, il problema è la televisione in mezzo alla stanza, mi triggera, uno switch costa 5 euro, no, no, lo so, lo so, ma è fatta la televisione messa così nel mezzo alla stanza, che non mi garba, capito? Il divano l'ascetto, no, lo prendo più avanti, non lo prendo ora, perché, sennò davvero troppi soldi, ma, più o po' lo prenderò, oppure, oppure, un tavolo qui, il divano qui, la sedia qui, questo lo sto pensando adesso, qui col computer, e qui la, lo schermo della televisione, così, qui c'è la PS5, se io streammo, il segnale lo vedo qui, se io sono qui a sede, la televisione la vedo qui, questa, questo è qualcosa, questo è qualcosa, questo è qualcosa, e nei lati ovviamente ci sarebbero, questo cazzo, questa potrebbe funzionare, ora che ci penso, cioè questa mi è venuta adesso, non l'avevo ancora concepita, nei lati ovviamente, qui bisognerebbe vedere la misura, perché non è sicuramente così, poi ovviamente restano i lati, questo angolo qui, come dicono in video di oggi, ci voglio mettere gli scaffali, per mettere la roba, quindi non so quant'altro, questo angolo qua, è l'unico senza prese, qui non ho prese, quindi, per poter avere delle luci qua, servirebbero, insomma, fili in terra, quindi, sarebbe un po' un problema, cioè non è un problema però, un po' un po' sconveniente, però questo permetterebbe lo stesso, di avere ad esempio, un tavolino qui messo di sbieco, per poter fare gli unboxing, oppure, io potrei fare un tavolo tutto lungo così, di modo tale, che, cazzo, sto realizzando, forse perché questa è effettivamente la prima volta, in cui mi metto, davvero a pensare, come posso fare questa cosa, hai visto tre episodi nuovi di Better Calls, no, no, aspetto che sia, almeno tutta la prima, parte uscita, io metterò la tv al muro, poi bisogna vedere quanti pollici, ovviamente, sì, per ora, la televisione c'ho questa, questa che c'ho ora, che è 32 per ora, poi magari, sarà tempo a prenderne un'altra, metterò la tv al muro, poi bisogna vedere quanti pollici, così fa l'angolo scena, postazione, metterò in altra parte, esatto, il problema è che io da PlayStation, ce n'ho una, non è che ne ho un pro 2 di PlayStation, e, alle tue spalle alla finestra, sì, finestra così, è vero, cazzo, se alle spalle ho la finestra, fa schifo, madonna che palle, allora, un'altra idea, un'altra idea ancora, la finestra alle spalle, fa schifo, alle spalle, ci vuole un angolo vuoto, quindi qui, o questo, o così, potrei comunque mettere il tavolo, così, tipo, e mette la sedia qua, e il divano qui, però fa ca, fa ca, no, non è una soluzione ottimale, stai, il divano magari qui così, però di spalle rispetto alla cosa, così, c'è braccioli qua, e il televisore divano, il fatto è che io ho fatto il muro grigio qua, non è che lo posso, beh, oddio, che se ne frega, no, non mi torna, non mi torna, non mi torna, se metto invece il divano, a muro così, e il mobile con la televisione, però è nel mezzo, è nel mezzo, sempre con il discorso delle switch, per là, il video, ma è un casino, è un casino, perché purtroppo, questa stanza, c'ha troppe, troppe cose, troppe finestre, troppe porte, quindi è un problema, o mi puppo, una finestra di sfondo, quanti metri, non è la camera, è una stanzona, è metri quadri, non lo so, praticamente considera che è, credo, se non sbaglio, quattro metri e mezzo, per quattro, quindi quattro, e quattro e mezzo, circa, o quattro e due, non mi ricordo, quindi, non è piccola, è una bella stanza, però appunto, il fatto che abbia una finestra qui, una porta qui, e due porte vic, con la cosina vi, rompe cazzo, e devo comprare una console, questo Natale, qual è, è il tempo da qui a Natale, è meglio Switch o PS5, non lo so, non lo so, non si può dire, che sia troppo complesso, alle spalle della finestra, potrebbe essere un problema, per la luce, non tanto per la luce, perché comunque ci metto una tenda, non è tanto il discorso della luce, quanto il discorso dello sfondo, che è brutto, mura una finestra, come si chiama questo sito, si chiama autodraw.com, autodraw.com, non lo so, perché, che casino, oppure, oppure, tavolo angolare così, cordivano, ho messo così, non lo so, non lo so, se vi sto annoiando, ditelo, si fa altro, giochiamo, perfetto, non lo so, è un problema, c'è un qualche, se io cerco, ad esempio, studio, streaming, and, gaming, vediamo se c'è delle idee, continua, stava prendendo un sacco, poi è chiaro, bella, non lo so, si è bellissimo, va bene, fotonico così, è impossibile, ma che meraviglia, che meraviglia, però vedi, anche il fatto di mettere la televisione, al muro, è interessante, bellissimo, non lo so, si è meravigliosa, posso farti una domanda, sui videogiochi, certo, una schivanina d'angolo, così fa la postazione lì, bello, madonna, beh, vabbè, vabbè, set supersonici, vediamo questo, cos'è sta roba, aspetta, 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 ho visto qualcosa, ma guarda là, aspetta, intanto apre, poi si guardano sti insieme, che meraviglia, certo, no, è troppo piccola, è troppo piccola, porca puttana, porca puttana, anche così, bellissimo, ora, due computer, no, non avrò due computer, però bello, anche così, bello, postazione la nasa, tra gli animali videogiochi, qual è quello che si comporta come il cane, ma che è, cosa, no, no, la si, ah, te dici la schivanina d'angolo, messa al muro, sì, sì, anche quello non è male, però ecco, se la metto ad angolo, quindi te dici qui, così, no, mi riesce a fare una linea diritta, così, niente, mi viene la linea panciuta, non c'è versi, eh, oh, allora, così, niente, mi viene panciuta, così, no, devi comprare due schivanie, perché due schivanie, che ci faccio con le, con le due schivanie, così, e così sarebbe anche bello, infatti l'avevo pensato, perché, di spalle, quando sono in live, con computer, diciamo così, si vede il, il muro gritto, ma tutte eventualmente le luci che metterò, quindi, bello, così è bello, indubbiamente, e, e, è bello anche perché così mi posso anche arciare in piedi, e farlo scemo, quindi, questo assolutamente ci sta, però appunto il divano, dove lo metto il divano, posso mettere il divano così, qui così, e una televisione qui, non centrato, perché voglio uno spazio vuoto, dove magari mette un tavolino o qualcosa, bellissimo progetto per il tuo nuovo studio, grazie, così però mi garba, così mi garba, uno sfondo, e là è troppo spazioso, è un po' spaisano, vabbè che c'entra, perché è troppo spazioso, dovresti avere uno sfondo carino, la tv si può mettere al muro in basso, il problema del resto è il divano, in che senso, il problema del divano, sì, la televisione la potrei attaccare muro qua, volendo, il divano resta di spalle, in quel caso lì, si può girare, certo, certo, è un po' scomodo, dove lo girà tutte le volte, e, ovviamente, non è in scala, io sono convinto, che il divano, arrivi anche un po' più grosso, tipo qua, il divano si può mettere alle spalle, crea un bello sfondo, quindi dice alle spalle del muro, quindi così, tipo così, però resta il fatto, che cosa guarda Vito, quando è a sede, ci vuole una televisione, non la posso mettere qua, la televisione, perché è lontana, è brutto, e poi se sapre la finestra, c'è la televisione, non galba, quindi, ci vorrebbe, una specie penisola qui, un mobilino, con la televisione, ma non lo so, non mi convince, cioè, poi, ripeto, la misura non è così, quindi non corrisponde un cazzo, grazie Mauro Lò, 16 mesi, è stato un parto, cerco di fare la sub, da inizio là, non riuscivo a cedere a te, comunque c'è riuscito, sono spaccato le ossa, ho sconfitto la mia pigrizia, ha acceso il computer, ho fatto da là, chissà quando metteranno i prime, da telefono senza usare, sa fare, è vero, è vero, è veramente imbarazzante, comunque grande, grazie 16 mesi, sono tantissimi, e sì, oppure, non so, non so, è un casino, è un casino, forse mi conviene ragionare, come se effettivamente, questa fosse una, un salotto, se fosse un salotto, compro un tavolino, all'icadio, metti lì fu, sì, no, non è il problema di, è il problema di capire la strada, perché non è che posso prendere il mobile, e poi fa schifo, ho capito, bisogna un attimo lavorare di immaginazione, e capire qual è la soluzione migliore, e non è facile, perché se ad esempio, questa porta non ci fosse stata, sarebbe stata più semplice, invece c'è, e quindi bisogna fare, di necessità, virtute, e, è un casino, è un casino, non so, levo tutto, la muro, la stanza, smetto, smetto, non si fa più niente, sta facendo una stanza, praticamente, per le due volte che, no, vabbè, non la faccio per Vito, io in questa stanza, ci voglio effettivamente stare, ci voglio guardare film, ci voglio giocare alla play, per i cazzi miei, oltre che faccio i video e le live, quindi, dico Vito per dire, se tipo la tv, la metti nell'angolo in basso a destra, come poi sto aggeggio, che la sostiene al muro, qui, tipo, c'è, deve essere uno studio, capito, una stanza studio, per i cazzi miei, e per le live video, cioè, io voglio, da ora in avanti, deve diventare un lavoro, questa cosa lì, basta, io voglio fare queste cose, basta, quindi, è una cosa seria, io non, ci ho perso due mesi, non è che è una cosa che faccio così, se a me va bene fare gli schemi, però, dovresti portare i mobili in uno studio, è vero, tanto prima o poi, li devi portare, è vero, ha ragione anche lì, ecco, io stavo cercando di rimandare, ma credo che sia, girarli, spostarli, vedere come stanno, credo anch'io che sia la osa mele, solo che volevo, fare questo, cioè, non voglio comprare il divano prima, il divano lo devo prendere, quando so dove mettilo, capitolo, capitolo, io dico, pensare a bene è fondamentale, avere un ambiente di lavoro e di relax, in cui si trovi stando bene, infatti, infatti, eh, proviamo un po' a cercare, YouTube studio, YouTuber, studio, studio YouTuber, vediamo se c'è qualche YouTuber famoso, che magari, può ispirare, una stanza da tubing, oh, fermi, 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 non sapevo esistesse sta roba, bello, bello, chi è questo vi? Attenzione, ma questo è quello di, no, non è, sembra quello di Frafrog, non è, credo, no, oh sì, no, 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 non c'è il cazzo, vedi, anche questo divanino, questo divanino è messo qui palesemente per sfondo da, ma da bello, loro ci hanno messo il muro blu, bellino, ecco, ad esempio, molti dicono, perché hai fatto il muro grigio? Perché col muro grigio prendi una lampada e diventa colorato, è quello il discorso, se invece il muro lo fai blu, il muro è blu, se invece è grigio metti una lampada, lo colori, ovviamente non sarà la stessa cosa, però lo colori, ti compri, se pareppe rispondi con il pia, vabbè sì, vabbè, ora, sì, forse il mio problema è proprio che voglio rende questo studio anche un posto di relax personale, questa cosa forse dà problemi, perché non può funzionare probabilmente questa cosa, ed è un po' un problema, oh, aspe, no, no, bello, fai vedere questo, aspetta, fai vedere questo, no, non mi guardo, sì, non mi guardo, eh, ah, ah, aspetta che ho visto, che ho visto, che ho visto, ho visto una cosa sparita, fammi vedere, questo, questo, chi è Peter Meccino, no, chi è Mangaka, questo è Mangaka, non è Mangaka, per esempio, il tavolo messo di traverso, Dio sì, sarebbe male, leggi Telegram, potevi fare il muro verde, no, il green skin, il green skin non si vernice, il green skin se lo metti di, di tela, ah, ok, così, dici, il televisore angolare, così, sì, sì, no, è Cugino, palestrato di Mangaka, ma è vero, il braccio c'è, è vero, il tavolo di sbieco, Dio sì, c'è di sbieco, di, per esempio, un tavolo messo così, no, non lo so, non lo so, sto impazzendo, ci devo portare tutti i mobili giù, e valutare di un sequenza, c'è un po' da fare, non ci si, il tavolo di Osicco, però il retro, no, ce l'ho, ce l'ho di qua, no, forse la posizione, per lo streaming, forse è meglio il tavolo angolato, così, di modo che di sfondo ci sia tutta la stanza, con tutte le luci, con tutti i cazzi, quindi con la portona così, rivorta di qua, ovviamente, con gli schemi qui, sì, mi sa che la soluzione migliore è questa, la scrivania ce l'hai già, e, c'ho questa, che c'ho qua, poi c'ho quell'altra giù, che però non lo so, e, vabbè, poi vediamo, farai, farai, farai più ore di live, con un nuovo studio, non lo so, di sicuro più video, metti una piscina al centro, e fai live ottabre, ti chiami mia madre, e fai la postazione, in due secondi, ma va bene, va bene, è difficile, capire, più che altro, non sarebbe difficile, se non fosse per sti cazzo di divano, perché poi alla fine, c'è Isha da mettere, questo mobilino vi, la libreria, altri mobili, cioè, se io comincio a mettere, una libreria vi, un mobilino qui, per metterci magari, la televisione attaccata sopra, ci metti il divano di, il problema è che, il divano, io lo voglio usare, anche per fare video, quindi, non può le avere, i, a parte oddio, eh, io mi complico la vita, inutilmente, forse, perché se io, il suddetto divano, se io, allora, se la televisione la mette angolata, come dice, no, però, basta, vi sto rompendo i coglioni, mi sto venendo a noia, penso, non credo, di essere, divertente, per bui stasi, divano, puoi spostare per le venenze, sì, sì, però, insomma, non è che, sì, lo posso spostare, però, non è che lo posso spostare tutti i giorni, una certa, vabbè che fa palestra, però, insomma, diventa un po', sta vedendo, alla tua mamma, mi sta vedendo, la tua mamma, vabbè, ma non conosce, magari le mie esigenze, se comprassi una serie da game, per ora c'ho questa, mi tengo questa, che comunque, è bellina, questa serie, un divano piccolo, piccolo non pesa, vabbè, sì, quello che si era visto ieri, mi pensava, mi sembra un 20 kg, quindi sì, non è tanto, però, insomma, ciao Matt, bisogna vedere quel video, che mi ha suggerito prima, benissimo, c'è un insetto, vai via, e, insomma, è, boh, ora cerco, studio, youtube, with, sofa, vediamo un po', se trova qualcosa, sto cazzo di sofa, boh, vabbè, c'è delle robe mai viste, però è vero, il divano nel mezzo alla stanza, potrebbe essere un'idea, e il problema è quella cazzo di finestra, il problema, se non c'è, e dovevo murare la finestra, oh, questo, questo, fa vedere, fa vedere, sì, però, non, il problema è che, se viene dito, io voglio farlo già, alla festecio sul divano, come fai, qui, c'è la televisione davanti il divano, un po' di mano grosso, sì, secondo me, mi sto creando delle, mi sto creando un problema, con questa, con questa forma, che voglio dare, che sinistra, faccio lo studio di che sinistra, vediamo un po', come creare il tuo youtube home studio, che sinistra, c'è lo spazio centrale, che comunque lo spazio centrale libero è utile, cioè importante, la verità è che vuoi una poste, sì, vuoi una postazione fissa, che non sposterai, il meno possibile, lettino per il vito, la serie da game si spera, te la regali qualcuno, sì, sì, infatti, infatti, ma è difficile, cioè oddio, in realtà, neanche si, vedo le, le tirano alla gente, veramente, quindi, eh, questo, guada, 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 bellino, lo vedete voi, no, c'è la mia faccia davanti, qui non si sa cosa si vede dietro, però insomma, e, sì, anche una nostra, sì, per farvi dei, l'unboxing, tipo, infatti, lo metto un tavolino angolato, qui, o qui, proprio per fare gli unboxing, con la luce, tra l'altro c'è anche la luce che viene da fuori, quindi, ottimo, avete fatto un nuovo aggiornamento? Eh, sì, ho fatto ieri, ieri l'art, meglio, come un casino, via, è difficile, compra legno e fate scrivere, sì, ho paura che, si porfa, di avere la televisione davanti il divano, si porfa, ah, è uscito oggi un altro aggiornamento, Diff Apart, ok, poi dopo la giorno, ok, se non stai posizionando la schivania a L, come avevi messo il primo disegno, il divano lo metti con le spalle attaccate al muro nord, qui, qui c'è la finestra qui, questa è una finestra, muro nord, mentre posiziona la serie della postazione streaming con le spalle verso la parete est, così, no, aspetta, fermo, la cosa brutta sarà vedere il retro della tv dalla porta a sud, eh, mi sono perso, il lato è che, il lato è che andrebbe coperto una tenda, se non si vede uno streaming, ah, te dici, eh, così, tipo così, no, 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 lo sfondo così non mi garba, lo sfondo deve essere o così angolato, o, che casino, oppure qui, cioè che metto la, il tavolo così, magari ad angolo così, e io sto qui, e lo sfondo è questo, non, non credo ci siano altri modi, a meno che non faccio, all'inizio, all'inizio, il tavolo da streaming lo volevo mettere qua, però poi ho detto, sì, ma poi si vede la finestra, oddio, potrei ad esempio metterlo un po' più in qua, così, e, mettere la camera in questo verso, anzi, in questo verso, e arredare qui dietro, no, di modo che io sto qui, il telefono, sì, lo schermo è qui, e si vede più o meno quest'angolo, solo che secondo me non è tanto pratico così, perché comunque poi si vede sta cazzo di finestra, e che, vabbè, c'è la tenda, però, un'altra cosa, qui, c'è il contatore della luce, è una stanza, che non era pensata per fare live, era una stanza da laboratorio, quindi, è un casino, così non si vede la parete grigia, esatto, la parete grigia, appunto, per quello dico, se metto la schivagna qui, da streaming, è perfetto, perché si vede la parete grigia, e tutte le lucine, mobilini, le cose, cazzatine, divano, il problema è mettere la televisione davanti al divano, non si può, le fa, secondo me così è la meglio, perché, qui poi ci metti i mobili, per, cioè, gli scaffali per tutta la roba, eventualmente un tavolino per fare videini, unboxing, con la cosa dall'alto, la zenitale, oppure la metto di qua, così, secondo me è perfetto, però, il robot, resta il fatto che c'è questo cazzo di divano, senza televisione davanti, e tutte le volte che verrà avvito, il divano non può essere usato per, chi se ne frega, pazienza, ma non è solo vita, è anch'io, poi è chiaro, io ormai sono nell'ottica che, io non sono più riuscito, non è più riuscito a giocare per me, ho sempre giocato, a parte qualcosina, ho sempre giocato per, o per i video, o per le live, quindi, c'è anche questa possibilità, che insomma, non c'è più il tempo del gioco, per svago, insomma, però, insomma, se io voglio vedere un film, o comprare il divano, mi voglio vedere sul divano, capito, e secondo me, sbaglio in questo, probabilmente, non posso fare, tutte e due le ose, nella stessa stanza, secondo me, devi chiudere la finestra, per far entrare l'area, usi la porta, e, vabbè, ma la finestra, non chiedola per un tanto, però, appunto, la luce, vabbè, è una finestra, e fa un muro, la finestra, via, comunque la tenda, poi ce la devo mettere, quindi, non credo, cioè, probabilmente rischierà sempre chiusa, questa finestra, però non è detto, è un casino, è un casino, è un casino, non lo so, non lo so, boh, basta, si smette, perché vi sono, annoia di sicuro, se non aprirai, mura, le risolvi tutte, sì, no, dai, no, la finestra, non si mura, non si mura, la finestra, tra l'altro, il problema, non è neanche tanto la finestra, quanto le altre porte, non è che posso murare le altre porte, è così, è così, e basta, vediamo se c'è dei video di gente che, che fa vedere, sto, streaming studio tour, vediamo un po', streaming studio tour, vediamo se c'è qualcuno che dà qualche idea, il nuovo studio di Dario Mocia, perfetto, studio tour, studio di Tokyo, questo è Tom Rook, nuovo fotografico di Art, boh, esagerato, Danny Lazzarini, perfetto, andiamo a vedere lo studio di Danny Lazzarini, si vedeva ieri sera, perfetto, andiamo a vedere, sono curiosissimo davvero, dove metterà la fiantina, ma non ce l'ho, comunque sì, la postazione sta bene lì, devi trovare la soluzione per il diamante la TV, ma solo con il conto e carta di debito BB, ho detto prefetto, no, perfetto, vabbè, vabbè, ecco che cosa stiamo a guardare, qui, questa postazione PC, bellino, sì, ma lui c'ha 20 dipendenti, come funziona, porca putt, c'è, c'è più computer che persone, davvero, ti confronti con lui, ma beh, io cerco idee, sto cercando idee, comunque vedi quanto la luce cambia, bello, attenzione, questa è un'idea, vedi, questa è un'idea, cazzo, questa è un'idea, il divano, e la televisione non davanti il divano, ma di lato, questa è un'idea, effettivamente sì, io potrei mettere la televisione qua, bello, fa anche sfondo, dico, il divano messo così, non lo so, non lo so, non lo so, ti viene il tuo ciccone, sì, ma sembra, lo studio, ma cos'è, un emittente, internazionale, tutti e benvenuti, ma quanti sordi fa, lui, capito perché c'ha braccio, perché nella certa, pure tirà sul portafoglio, i miei bracci così, basta, basta, ma, i podcast, si possano sentire, questi podcast, danni, lazzarin, podcast, che non vedi lo studio, di play, eh, infatti, ah, dl podcast, c'ha un canale per i podcast, ok, fermi tutti, fermi tutti, dl podcast, 40.000 iscritti, attenzione, eh, però, vedi, un anno fa, un anno fa, come mai, è un anno che non li fa più, c'è qualcosa, che non torna, forse, no, ma covid, in realtà, c'era già al covid, qui, c'è chi ha adattato la sua camera studio, vede esempio proprio il video, che ti manda, togli i panetti, eh, tanto voglio vedere, sto video di panetti, ringraziamo Costanza, che fa sempre aggiungere obiettivi a tutti, grazie, fattori più luoghi, non lo so, non si chiamano dei big, quelli di QDSS, sì, è vero, è un bellino anche lo lì, ecco, eh, QDSS, però, vedi, quello, è uno studio proprio interamente pensato al video, non è, aspetta, studio, mi sembra che, già non so se loro lo usino effettivamente per, qui, tre anni fa, no, questo è quello vecchio, vedi, sì, 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 dove guardo, da che facciamo? 3, 2, 1, già ho guardato, una santissima, che cosa è successo da nero? e, nel frattempo ha sbaraccato, e penso anche io, perché probabilmente non c'è, diceva, se bisogna fare video a 15.000 visite, non vale da pena, non lo so, bellissimo, i signori, ragazze, sinargo, hanno fidato al tuo, schippiamo, schippiamo, l'ho già vista, sta roba, schippiamo, Rossella con un'altra camera, quindi, sera, tutto come se foste lì, con noi, chi siete? ok, dove guardo? da che facciamo? 3, 2, 1, già ho fatto, fina santissima, che cosa è successo da nero? è bellissimo, è grave, 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 hanno smondato tutto, è molto più pulito, è molto più bello, ma era la stessa stanza di prima, quindi, vedi anche lui c'era una finestra, la porta finestra, non lo dobbiamo rovinare, ecco, un mobile o sì, lo devo prendere anch'io, vedrai, c'è un po' da fare, bellino il divanino così, aspetta, fermo, è una smondata, ah, è una portroncina, ok, guarda che bella adesso, vedi anche loro, hanno il divano, nel medio della stanza, e la televisione davanti, ma che cosa avete combinato? probabilmente è quello, lo devo fare anch'io, bimbi, è quello, lo devo fare anch'io, cioè mettere, vabbè, madonna è schifo, mi ricordavo facessessi schifo, mettere il divano qui, e la televisione qui, magari proprio, o con un mobilino, attaccato al muro, e qui uno scaffalino, devo fare, non so, sì, per forza, e ovviamente la televisione, attaccata alla playstation, che è qua, è attaccata con un cavo, oppure la playstation, potrebbe essere attaccata qui, che con un cavo, me lo porta anche lì, per fare live, penso che sia così la soluzione, in certi modi, occhio che i divani sono più grandi così, sì, sì, il divano è più grande, ma non torna, non tornano le misure, perché è fatta a occhio, bimbi, non è così, però, sì, insomma, aspetta, c'è, zetti di merda, il coso di recet appeso, sì, non mi garba, devo dire la verità, non mi garba il coso di recet, guarda che bella, ma sta scala è vera, o è di scena? comunque le porte ce l'hanno, anche loro, quindi due porte, bella sta luce, tra l'altro ce l'ho qua in soffitta, la portai qui, la posso attaccare e metter giù, assolutamente, uguale probabilmente, uguale a quella lì, mi sa, questo non lo possiamo riprendere, no, questo non si può riprendere, perché no, e guarda lì, ci sono le registrazioni in televisione, quella è Michele che attacca la pellicola, ah, ah, vedi, un mobilino con le rose, bellino, sì, carino, sì, la scala è vera, più in sopra hanno collaboratori, ok, comunque, a venerla così come stanza, secondo me è grande, all'incirca come la mia, forse, forse un pochino di più, ma non così tanto, quindi, potenzialmente siamo lì, vedi lo studio, si, si vide già lo studio di Akidele, fra poi più grande livello di Danny Lazarin, quindi vabbè, e sì, è una nostra, sì, molto più alla mia portata, diciamo, più a una stanza, allora, cerchiamo di fare le rose un po' più in scala, il divano, io avevo preso la misura, uno a 130, arriva tipo qui, più o meno, quindi facciamo conto di metterlo così, e mobilino con la televisione qui, il punto qual è, il mio problema è che se io voglio fare video sul divano, perché un conto è se devo giocare, quindi devo guardare la televisione, un conto è se devo fare video, cioè, e c'ho la telecamera che mi riprende, e ora, se metto la telecamera di lato, scusate, parlo a voce alta, sto pensando, se metto la telecamera di lato, effettivamente mi riprende di qua, e non è male, lo stesso se metto la telecamera di qua, non è male, il punto è che a me garbava far vedere lo sfondo grigio, quindi in quel caso dovrei girare il divano, dovrei girarlo, è un cassino, è un cassino, è un cassino, non esco, io sono settimane, perché dici sempre Yakidele, Yakidale scusa, perché mi viene naturale dire Yakidele, non affideresti a nessuno, nemmeno più, se si può fare lo studio, no, infatti, io me lo fanno da me, ma perché voglio sapere cosa ci metto io, nello studio, opinione in persona, questo assetto classico con divano di fronte al televisore, è il migliore per te che punti comunque al gaming, anche una disposizione alla lazaric, o televisore di lato, è più comodo se siano in quadratura multipla in televisore, sì, ma infatti quella di lato non mi è tanto comoda, e cami postazioni, sì, cambio lo studio, però sono in eterno, in eterno incertezza, scrivi nuovo studio su YouTube e confrontati con alcuni risultati, sì, allora, aspetta, vediamo se c'è qua, configurazione perfetta, YouTube e Twitch, chi è Alpha Gaming? vediamo, so chi sia, Alpha Gaming, intanto cerco, nuovo studio, nuovo studio YouTube, ah, esce il mio video, esce il mio video, non ci credo, non ci credo, bellissimo, e, il mio video, il mio video, vabbè, questi, creare una postazione perfetta, more than tech, studio tour, mi mostro tutta la mia interezza, attenzione, vediamo, questo è, non so chi sia, mai visto però, e Gaming Careers, no, questo è inglese, vediamo questo, mappa un nuovo studio, sì, perché sto cercando di capire come mette, sti cazzo di, di, di mobile, studio tour, oggi ci facciamo un bel giretto, nel mio studio di registrazione, guardiamo la mia attrezzatura, componente per componente, quella che utilizzo tutti i giorni, nel mio lavoro di content creator, così che possiate prendere spunto, chi è questo? Andrea Cirovolo ho capito, anche per i vostri video, per i vostri contenuti, vi dico che, nella descrizione di questo video, trovate i marcatori di capitolo, così che se vi interessa, qualcosa in particolare, non avete bisogno di guardare, non voglio, illuminazione, che vediamo qua, e si è rotto, poi ho bisogno, per quanto riguarda l'illuminazione, sono illuminato prevalentemente, da questo Elgato Key Light, che è super comodo, si comanda con lo stream deck, poi vi faccio vedere, vedete, si può spegnere, si può accendere, si può modificare la luminosità, e tutta una serie di parametri, a me non mi capa, il modo che sono messo così, in maniera molto rapida, e piuttosto, ma è una stanzetta, l'unico elemento di arredo, che è rimasto, della camera delle mie bambine, perché questo studio di registrazione, cioè lui ha buttato fuori le figlie, per farci lo studio, cosa vuol dire? è un costo sostenibile, ne vale la pena, e ne rimarrete decisamente soddisfatti, soddisfatte, ci sono diversi modelli, HME sono quelle, se non erro, con il microfono, basta, allora, vediamo qui, ah lui, ho capito, Alphagame, sì, ho capito, attenzione, 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 perché qui potrebbe essere interessante, è inglese, americano, studio tour, vediamo un po', credo era chiamato, il mio studio di 30.000, non un flex, solo un fatto, e era il nostro primo video, che abbiamo fatto insieme, un po' ha cambiato, come puoi vedere, se mettiamo un film di ultimo, questo non sembra niente, come si è solito, quindi, vabbè, il padre dell'anno, io avremmo avuto, di sicuro, l'avremmo buttato fuori, per strada, un studio, per both streaming, e full time YouTube, sembra, e per studio, io mi chiedo, il nostro basso, il nostro basso, schipa, 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 due stanze, il nostro basso, il nostro basso, non è più grande, e l'altro, è più piccolo, anche per filmare, quindi, ho usato il nostro basso, ma non ho bisogno, comunque, non mi piace, questa roba, è una roba, dove faccio, tutto il mio film, tutti i miei progetti, ogni build, che faccio, e questo è, in una forma, e la slide, sembra un magazzino, stable, ok, gaming, while I'm standing, this is the PC, that I'm in the middle, of liquid cooling right now, so it's, a little bit, under, constr- casino, si presenta nemmeno, va bene, va bene, cos'è che volevi vedere, ho visto un nuovo video adesso, qualche pannelli, fono assorbenti, metteci, sì, sì, qualcosa si vedrà, quello si vede alla fine, perché, devo aspettare, che ci sia tutto, prima di capire, quanto, eco resta, sei tu in versione americana, sì, più o meno, e, cos'è che avevate detto, un altro studio a vedere, a Yachidale, no, a Yachidale, o vediamo, vediamo, vediamo anche Yachidale, nuovo studio, Yachidale, Yachidale, magari dà qualche, spunto, ti massaggi il bicipite, no, l'ho fatto sì, un po', sì, mi massaggio il bicipite, va bene, oh, ma guarda un po', ho a proposito, ho scoperto ieri il tour gratuito, della Steel Series, per gestire con un mixer, su desktop audio, di ogni sorgente in live, lo conoscevi? No, gestire con un mixer, su desktop audio, di ogni sorgente in live, come funziona? Poi, parlamene in privato, poi, si vede, flex a vicino, donna, ora flexo, donna ragazzi, stamattina, in palestra, mi ha, mi ha sbriciolato le gambe, quel cazzo di istruttore, mi ha detto oggi, te lo do io, non ce la facevo, devo, no dai, non posso, io, io sono un imbecile, lo so, felici ritrovamenti, Pento Penguin, ciao, allora, flexino, flexino di sette mesi, basta, basta, no sei mesi, sette mesi, quanti sono, basta ragazzi, ditemi che sono un imbecilo, per favore, controllatevi, quel programma di cemento, potrebbe esserti avvenuto, va bene, dimmi come si chiama, ora sono curioso, voglio capire, aspetta, me l'ha detto ora, still series, still series, questo, te l'ha dato lui, mi dà la scheda, con cose, perché, no, qui, software, GG, Sonar, casa mia è più piccolo, lo studio, sì, sì, assolutamente, gioca a Crash Bandicoot, oh, video stabile, vai un po', a fare le storie topolini, non è vero, c'è video stabile, bene, vieni qua, c'è da fa sordi, vieni qui, che si fanno i sordi, li vuoi i sordi, vieni qui, si fanno i sordi, come Danny Lazzarini, Danny Lazzarini, no, presente il muscolo di Danny Lazzarini, eh, qui ce l'ho, no, basta, scherzo, scherzo, io, allora, fare palestra, per uno che, che si galvanizza, che uno che, che è, io sono vanitoso, io sono vanitoso, è la fine, perché appunto, io dovevo andare a palestra, perché sono ancora più cretino, di come ero prima, e allora, quando fai palestra, distrutti i muri, no, 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 beh sì, i muri, lo distrutti a mano, cosa devo vedere, questo è il mixer, ma non so, se è qualcosa che mi serve, fa vedere, still sonar, è questo lì, è questo, ma come funziona, ma non credo sia, mi sia di, di, di aiuto, sta roba, onestamente, non lo so, poi me lo studio a modo, ora non è il momento, allora, vediamo il tour completo, del mega studio, di Yaki Dale, Eden Shoulders, cute purificata, e fino al 100% libera, dalla forfora, c'è un certo topo, che gira, che sta chiedendo di giocarlo, è bello essere vanitoso, si alza la sua stima, ma non è che, sì, però, bisogna anche cercare, di non essere imbecil, e, c'è, ti vedo a fare, un'ora di allenamento, un'ora di specchio, può stare, no, un'ora no, mezz'ora, mezz'ora, no, all'inizio specialmente, sì, ora mi sono abituato, no, all'inizio, in realtà, all'inizio, i primi due mesi, quando è, ora mi sono abituato, però, oh, d'altra parte, è vero, quando magari è finito l'allenamento, tipo il mercoledì, che fa anche bracci, va da uno spogliatoio, mi levo la maglia, cosa fa, uno sto, due minuti, lì davanti allo specchio, a vedere, no, in realtà, ok, vediamo, pet, non lo so alla volta, c'è da vedere anche il video di Panetti, vediamo un attimo, eccesso di autostima, comunque non è che mi massaggio il bicipite, mi, poi un po' so fa' così, cioè, Dio ragazzi, mi devo, se devo fa' allora, ok, poi lo guardo dopo, intanto, questo video di Panetti, benissimo, eccolo qua, salve, e benvenuti, nello studio d'Ale, finalmente completo, studio d'Ale, partiamo da fuori, bene, quindi questo è l'esterno del nostro studio, è ancora un po' work in progress, questo non è uno studio, questa è un'azienda, non è uno studio, ce l'hai vuoto, un ulivo, ulivo che era messo malissimo, perché poi con la neve, è tipo crollato, e allora è venuto Matt the Farmer, è un'azienda, si, Matt the Farmer, ha chiamato Matt the Farmer, che avete visto qualche unboxing fa, molto 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 interessante, anche se non ho abbandonato, post allenamento è bello, perché ti senti come, sì, sì, soprattutto le prime due ore, prima ora, specialmente che c'è il pump, c'è i bracci, l'altra volta effettivamente, perché ora mi sto facendo fare un programma per l'estate, in modo ad essere più definito, l'ultima volta, mercoledì c'avevo dei bracci, mi ho detto, ma che cazzo sto facendo, ma basta, poi si sgonfia, però lì per lì, dici, non voglio diventare troppo grosso, probabilmente quella sigla, e questa è più di tutto il tuo studio, che mi hanno lasciato i vecchi proprietari, prima o poi la... vabbè, andiamo dentro, c'è questo lì, sembra lo studio di Corridor Digital, non è uno studio, è un'azienda, l'ho detto, è una factory, non lo so, c'è la Naughty Dog, la Naughty Dog, quando ha fatto Crash 1, era una stanza, con sei computer, tutti lungo una parete, la Naughty Dog non ce l'aveva questo studio lì, ai tempi di Crash 1, ma neanche Crash 2, quella sigla è ok, c'è veramente, ma perché? ...il mio studio, che non è mai stato così ordinato, infatti l'ho ordinato solo per il video, e poi tornerà a essere... qui, qui, ma poi c'è il Dark Fan, che tiene i playbub, sì, mi tocco lì, perché mi pruda, vabbè, iniziamo da quel lato di là, qua abbiamo l'insegna Dale, che mi ha fatto il buon giacquo, è il magazzino Amazon, vabbè, andiamo a vedere la postazione stream, divano, 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 un divanone motorizzato, per chi si fosse perso qualcosa, funziona così, non è un semplice divano, è un divano motorizzato, ed è la cosa più divertente del mondo, ragazzi, ogni volta mi diverto un sacco, dobbiamo fare delle modifiche, nel senso che, devo renderlo in grado di sterzare, mi piacerebbe anche renderlo in grado, perché lui adesso è su un unico asse, avendo gli skate, tutte le cose varie, qua ci sono le stampanti 3D, per ora, ho solo queste due, questa è veramente, è veramente, oh, io c'ho sordi, guarda che c'ho sordi, non è neanche, mi interessa neanche, allora, senti, facciamo un po' di break, da questo, dallo studio, che probabilmente, verrà fatto così, penso proprio che verrà fatto così, con qui i mobilini, un mobilino qui, un tavolino qui così, per un box, penso verrà fatto così, ancora a guardare i divani, no, ora ci accingiamo a vedere un video di Panetti, che sono curioso di vedere, che se ne parlava, cioè, me ne parlava prima, di quando è, è del 7 febbraio 2022, quindi, precedente, così va a perdere, studi così grandi non rendono più, ovviamente, infatti, studi grandi o sì, non hanno senso, per me, perché uno studio deve essere pratico, deve servire effettivamente a qualcosa, uno studio sì, serve solo, a far vedere chi ha i sorti, mi dispiace, io, lo so, io mi fa nemici, ogni giorno, ogni volta che apro bocca, ma, fin di tutti, gli Akidea, non lo conosco, sicuramente è un bravissimo ragazzo, non lo so, buon per lui, però, secondo me, non ha senso, fa queste cose, comunque, va bene. Il boss con me, non lo fai, sai cosa puoi fare al mio canale? Fare un bel pompino, a tutta la gente che me guarda, un bel pompino, a me e alla mia community, pezzo di merda! Pulcino visto di fronte, è arrivato Dario Moccia, Rambo, grazie, è arrivato Dario Moccia, allora, un po' di contesto, voglio vedere cosa è successo, perché, due mesi fa, quindi arrivo in ritardissimo, però, insomma, hanno litigato, non ho capito se hanno litigato, non lo scarico, finché tu, per esempio, questo è che è palesemente una stanza, però, mi calma già di più come fatta, più senso, perché pratica, serve effettivamente a qualcosa, non entri un giorno, stavo a Kung Fu, quindi anche te, flexi, buone di Fortnite, perché posso dire che mi sono rotto il cazzo, succede questo adesso, adesso, adesso parlo io, ha parlato Nanni, Nanni mi rompe le palle per i giochi che consiglio io, adesso parlo io, Dario Moccia, stasera, si gioca, a Rainbow Six Extraction, con la Tomo Daci, va bene Dario, fighissimo, sono gasato, allora che faccio, vado su Epic Games, prendo, eh, il gioco, 40 euro, lo compro, lo compro, lo compro, lo scarico, arrivo alla sera, siamo in tre, non si possono fare cose da quattro, dico vabbè, era gratis sul pass, io l'ho comprato, bro, l'ho comprato, nessuno mi ha detto che era gratis, l'ho comprato, l'ho comprato, eh, siamo in tre, eh, c'è Dada, c'è Nanni, non si può fare, va bene, va bene, va bene, vado a giocare forte, provo a giocarci, vabbè, questo a parte che mi ha crashato, ma quello è un altro discorso, mai più sentito Rainbow Six, compro Yu-Gi-Oh, va bene, lo compro, compro Yu-Gi-Oh Dario, va bene, compro Yu-Gi-Oh, sì, contesto, Panetti sembra essersela presa molto per la disorganizzazione della Tomodachi, che sembra preferire alcuni membri rispetto ad Arti, non lo so, questo è scritto Matt, quando c'era, no, non era uscito ancora Master Duo, compro Yu-Gi-Oh, compro Yu-Gi-Oh, no, è la versione sbagliata, va bene, tutto a posto, allora che faccio, prendo, restituisco i soldi, e scarico l'altro, una partita, finito, finito, tutto a posto, io sto spendendo soldi per queste Tomodachi di merda, io sto investendo più di chiunque altro, e nessuno gioca con me, propongo un gioco io, Dreadhunger, una volta lo vogliamo rifare, no, non si può fare, non c'è nessuno, Dario Maccio è l'unico gioco che mi appoggia in Fortnite, e per questo lo amerò per sempre, Smite, no, no Smite, no Smite, no Smite, no Smite, no Smite, un giorno si svegliano anni e fa, ho scaricato Smite, dopo sei mesi, e si incazza perché non ci gioco, scarica Overwatch, io oggi scarico Overwatch, si gioca Overwatch, voglio vedere che succede poi, non, non l'hai scaricato quando te l'ho chiesto, non l'hai scaricato quando te l'ho chiesto, la Tomodachi, è un bel mucchio, di stronzate, non esiste la Tomodachi, lo dico io adesso, sapete quando esiste la Tomodachi, quando ci sono le ATV a quei giochi di merda, dove io non ci sono, ora ditemi, un gioco, della Tomodachi, che avete seguito, per più, di una sera, è fake, dite che è fake, se dove un po' di verità c'è, immagino essere Netflix, e fidarsi di stress, la sera, signor Moretti, sono il signor, ora dovrai spazzare tutti i miei figli, cosa succede a Rust, ora vi dico cosa succede a Rust, ok sei stato bravo, ma ritornerò, un bacino sulla pelata, Tomodachi Crew, su Rust, sapete chi era Tomodachi Crew, su Rust, Nanni, mattina, pomeriggio e sera, entravamo che non andavamo fancazzo, entravamo e andavamo fancazzo, facciamo la base tutti insieme, certo, tutto a posto, faccio tutto io, è arrivato Nanni, è Tomodachi questo? no, questo è prendere un gioco della Tomodachi, e farlo tuo, vaffanculo, fa schifo la Tomodachi, fa schifo, Fortnite, Fortnite, comunque parecemente esagera, esagera, grazie 30 abit, perché i ragazzi non io la sapo, Fortnite, bellissimo momento, incredibile, con Dario ci ho giocato una, due volte, con Xuder, Fortnite, è l'esempio che gioco migliore che esiste, cosa che Nanni non riesce a capire, perché io devo giocare a Sacred, devo fare i draghi, perché io se non faccio vedere, che gioco ai giochi di nicchia, che non gioca un cazzo di nessuno, perché sono un vero gamer, non conto, conto, conto più degli altri, perché Fortnite non posso giocarci, ci giocano i bambini, è commerciale, panettino ti amo, adesso voglio sapere, il nome, il vero Simona, il vero Simona, calmati, calmati Simo, noi ieri sera a Pisa, questo è una, ban, 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 Pisa? ban, Dada, ban, Dario, Morsha, ti seguo da quando faccevi le lemosine fuori dalle Eurospine, è così che nascono i super cattivi, ban, ma con gli altri tutto bene, con gli altri tutto bene, ma ho Mangaka, Mangaka si, Mangaka la guarda un vero, un vero amico, un vero amico Tomo, un vero crewmate, sai cosa fa? Fa questo, vi faccio vedere Luca Mangaka, da lunedì sono tutto per te, poi io non sto giocando, Luca Mangaka, vero, unico, membro, della Tomodachi, e io da amico sbanno dagli altri, che ha, gags finita, gags, solo perché ha i baffi, no, non avevo i baffi, ora aspetta, dai, entripo, scusa, io invito chiunque da Tomodachi ad entrare su Twitch, e voglio sapere il nome di chi ha proposto Overwatch, Grazie Ara per il Prime, mi bolo, grazie 20 mesi, Salice, cazzo nei 100 bits, Zacchi, cazzo nei 4 mesi, Edoardo, cazzo nei 6 mesi, Tomodachi, e quando te l'ha chiesto, ma Tomodachi cosa vuol dire? Dario Maccia risponde, Tomodachi significa, amico, tizio cosa? L'ha proposto tizio? Lo li provo a vedere, adesso vado sul gruppo di, ah, tra l'altro non esiste nemmeno un gruppo Tomodachi crew, non esiste un gruppo, e sai se io, se io doggio, se io, allora racconto questa cosa, racconto questo piccolo fan fact della Tomodachi crew, guarda, guarda che faccio eh, ecco, racconto un piccolo fatto della Tomodachi crew, mi ritrovo, alla sera, vado in live, Tomodachi sta giocando a un gioco, cioè, potete invitarmi, l'abbiamo scritto sul gruppo, cioè quale gruppo? Il pub dell'amico, ok, Tomodachi crew, 40 membri, il pub dell'amico, 40 membri, ad oggi, ad oggi, secondo me il gruppo CMA non ti hanno invitato, ho 347 messaggi non letti, ora sono sicuro che il tizio l'ha scritto qua, no? Puttanate, puttanate, stronzate, cazzate, cazzate, queste non sono stronzate, ok, forse dovrei seguire il gruppo, ok, forse dovrei seguire il gruppo, ok, ho letto delle cose interessanti, vabbè, in sintesi, bisogna fare un gruppo della Tomodachi, il gruppo c'è ma non ci sono? Sì, ho fatto ridere il telefono, il telefono tagliato, che sembra abbia un telefono che chiama più veloce di quell'altro, bellissimo, oi Simo, ma poi perché tagliare, perché tagliare il tono del coso quando puoi tagliarlo integralmente proprio, bellissimo, ciao, ascolta, esiste, esiste un gruppo della Tomodachi Q su Telegram, Whatsapp o qualcosa? Sì, ci sei dentro, ma perché? Perchissimo eh? Puoi controllare se sono dentro al gruppo? Sì, aspetta, mi stavo sentendo male in live dopo inizia il macello, deve ancora iniziare? Questa cosa per un motivo che capirò solo dopo, però lo faccio, sì, sì, ci sei? Puoi scrivere taggandomi nel gruppo? Oddio, io devo capire dove puoi arrivare, no, app dell'amico, credete di aver detto, credete di aver detto, gruppo Tomodachi Q? Ah, non c'è alcun gruppo della Tomodachi Q, c'è una roba, un gruppetto dove siamo in quattro, dove praticamente ci propongono dei lavori, però è solamente per i lavori, non per organizzarci coi giochi. Ok, dove ci si organizza coi giochi solitamente, quindi qua sul pub dell'amico? Il pub, oggi, ma Anami l'ha scritto, tipo un'ora fa, cosa faremo stasera? Ok, un'ora fa, aspetta, scusami, scusami che sono perso fra 25 messaggi, non capisco bene... Un'ora mi vorrei fare nove, lo dico io, vorrei fare Overwatch, e scrivi con il tizio qualunque che ci vada a maestro, vuole, vuole, vuole. Guarda, no, sto capendo tra quali messaggi ha, allora ci sta, Victor, aspetta, che parla di Sanremo, scusami, scusami, sto capendo bene, lascia stare, lascia stare, eccolo qua, eccolo qua, ci ci taglio, vai, ci sono tagliato. Stasera Overwatch, ok, ah, ok, capitanato da tizio, è qua sopra, ah, eccolo il messaggio, molto bene, senti, ti, ti, ti va, se faccio un piccolo gruppo tomodaciclue, magari, dove si parla dei videogiochi? Non me ne frega un cazzo, non posso stare dietro ai messaggi dove uno dice la merda è meglio del piscio, dove uno dice farmi le sega alle sedici è meglio delle dodici, e poi tra sti messaggi c'è giochiamo ad Overwatch, ecclissato e dimenticato, non posso leggere tutto. Ha ragione però, ha ragione. Hai finito lo spogo da Viale del Tramotto? Sì, ma Viale del Tramotto ha ragione lui, ma cosa lo sfogo? Posso parlare? Posso o no? Ma parla! Ok, allora, innanzitutto non si parla di quelle robe, ma si parla più che altro di body switch, delle nostre cazzate, se non hai voglia di seguire un cazzo perché non sei un cazzo, e quindi non sei niente, se non hai voglia di seguire perché sei una testa di cazzo, io semplicemente ti dico singolarmente in privato, vedo che ti stai caricando, stai calmo, se io ti dico in privato le cose, se io ora stai cercando i messaggi per leggerle alla chat, no, no, io ti dico, vabbè, comunque, ti ho parlato semplicemente del pub, di altre cose oggi. Adesso parte, ma veramente ora esplode? No, non leggere, sono cose private. No, no, assolutamente ti sto chiedendo, ti sto chiedendo, io non posso seguire un gruppo dove ci sono 40 persone, dove 32 persone, non le conosco, chi è sta gente? Allora, c'è un gruppo con JTaz, JTaz, ma che c'entra con la Domodaci? Ho capito, ma JTaz non commenta mai, e poi come sto detto sempre, da un anno a questa parte, io ti ho sempre contattato privatamente per fare le cose, sempre, anzi, un periodo di aria anche uscito, nel tuo periodo, così, ellenistico, dovevi andare, in un periodo, così, monastro e monasta, sei andato e ti sei levato al cazzo, sei ritornato, che ti ho sempre avventito, comunque in privato, su tutto, testa di cazzo, comunque dentro c'è Nico Pertici, che conosci, che conosci, Ciluzzo, che conosci, iBob, lo conosci, mangaka, Zizio, Masullo, Monica, sei conosciuto tutti, maledetto! Chi è questo che nella descrizione ci ha scritto, testa dura senza paura, con un T-Rex? E coso, è quel coglione di Hank. Chi è? Hank, è Hank. Ma che è Hank? Zeus Parkour? Chi cazzo è? Sparco, oggi Sparco non posso rimuovere dal gruppo, è il mio padre, ma che descrizioni sono? Nanni, Tata, Riso, Paolo, ci sono tutti i miei che conosci, Urolini, Chi è Ale Chef? Il periodo ellenistico. Il mio amico, è quello che è venuto a spazio. Non mi piace questo gruppo, mi dispiace. Vabbè, farò un gruppo da fumutacico, comunque sei scemo, eh. Vai, faccio subito questo cazzo di gruppo. Ma perché ha detto periodo ellenistico? Cioè, cosa ha fatto? Sono io l'amministratore, lo gestisco io. No, no, ecco perché, se vuoi fare un gruppo sulla Tomodashi Crew, perché vuoi essere l'amministratore del gruppo, sei un coglione, guarda come siete. Questa è proprio girare la frittata in una maniera, questa è proprio una ricirata, Dario Muccissima, Stavio. Ma poi lo gestisco io. No, no, ecco perché, se vuoi fare un gruppo sulla Tomodashi Crew, perché vuoi essere l'amministratore del gruppo, sei un coglione, guarda come siete. Questo gruppo non funziona, perché siete delle teste di cazzo, serve qualcuno che comanda la situazione. Se qualcuno dice qualcosa, va seguito, no che arriva. Dio Cane, è in basso, 40 euro, happy game, è rosso totalmente, la donna. Che bella male, visto, serve per enfatizzare, no scherzo, non fatemi flexare più. Pumpling, Pumpling, codice sconto, buona DX. Allora, pronti. Mi dispiace questo gruppo, mi dispiace. Vabbè, chi farà un gruppo sulla Tomodashi Crew, comunque sei scemo, eh. Vai, faccio subito questo cazzo di gruppo, sono io l'amministratore, lo gestisco io. No, no, ecco perché, se vuoi fare un gruppo sulla Tomodashi Crew, perché vuoi essere l'amministratore del gruppo, sei un coglione, guarda come siete. Questo gruppo non funziona, perché siete delle teste di cazzo, serve qualcuno che comanda la situazione. Se qualcuno dice qualcosa, va seguito, no che arriva... Dio cane, Rainbow Six, 40 euro, happy game, non ti rimborsa un cazzo, ho giocato 30 secondi di merda. Facciamo Rainbow Six stasera, se vuoi, allora. L'ho desinstallato. Facciamo Rainbow Six stasera, ma cos'è, ma dai, ma perché, ma che... Facciamo Rainbow Six stasera, se vuoi, allora. L'ho desinstallato. E' uno epic game, non ti rimborsa un cazzo. Ma la sono dietro io, no? Cado 30 secondi di merda. Cos'hai? Siamo Rainbow Six stasera, se vuoi, allora. L'ho desinstallato. Ah, gli ha chiuso, ma giustamente, l'avevo fatto anch'io. 11 mesi di pompini, pompucci 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 pompini, pompucci, ti amo. Ciao Luca, ehm... Luca, ciao, sei in live? Ciao. No, non sono in live. No, sono in live io. Ah, ok. Chi è questo? Si, sei in via voce. Ascoltami, ti va stasera di fare Overwatch? Stati andando alla testa. Ma quando? Stasera, stasera, con la Tomodachi. Ah, è mangaka questo, vero? Sì. Mangaka. Ma comunque, tra di noi, Tomodachi crew, c'è Overwatch stasera. Ma poi fa così come Eggman, cos'è? Devo capitare un ciro. ti scrivo adesso l'orario, ci sei comunque, perché se non ci sei tu, faccio altro. Ah, ci sei, aspetta, se non ci sei tu, io non ci sono. Beh, io ci sono, io ci sono, Luca. Se tu ci sei, ci sono anch'io, però dalle 23. Va benissimo, così si fa tanto. L'orario è sempre, sei comodi di Dario, quindi sempre alle 23, il suo orario gaming. Perfetto, allora, va benissimo. Va bene, Luca. Puoi mettere anche tu questa cosa, la voce con i beat, se si cresce, ora così no, siamo qua. Oh, bel baffo. Il tuo, il tuo è un bel baffo. Il tuo è un bel baffo. Il tuo. Il tuo è il tuo. Dai, ci vediamo stasera. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao. Buon pomeriggio. Hai visto sbagli? Non credo di aver mai sentito uno che, a me, mi abbia mai augurato il buon pomeriggio, nella vita. Questo errore in questa chiamata? Zero. Sera Simo. Oh, pronto? Buon mi sa parlare, il mio telefono in faccia, ti faccio a costare il canale, i canali, i canali, i canali, i canali, i canali. Buongiorno Malevitis. Allora, in questo momento Dario si è risentito perché lui gli ha chiuso il telefono in faccia, cosa che io approvo, perché gli ha dato una risposta che si può solo chiudere il telefono in faccia. Siamata? Zero. Sera Simo. Oh, pronto? Buon mi sa parlare, il mio telefono in faccia, ti faccio a costare il canali, i canali, i canali, decalmati il cuore. Allora, io ti ho sempre chiamato, aspetta, aspetta, cosa hai detto? Fai zitto, allora, il potere forte, i poteri forti ragazzo, I poteri forti, perché è così che fa, è così che fa con tutti, è così che fa, il boss con me, non lo fai, sai cosa puoi fare al mio canale? Fare un bel pompino, a tutta la gente che me guarda, un bel pompino a me, alla mia community, pezzo di merda. Allora, non ci vuole poteri forti, basta andare su ebay e comprare i doss indiani. Comunque, cosa? Allora, non ci vuole poteri forti, basta andare su ebay e comprare i doss indiani. Cos'è che compra su ebay? Perda! Allora, non ci vuole poteri forti, basta andare su ebay e comprare i doss indiani. Comunque, a parte questo io ti ho sempre chiamato per tutto tutto, tutto, ti ho chiamato al telefono proprio telefonicamente che non lo faccio nemmeno con mia madre per giocare al tuo Fortnite di mezza, quando c'è il periodo Fortnite del cazzo, hai rotto i coglioni a tutti, a me, a Nani agli Ego e tutti indietro a leccarti in culo a giocare a Fortnite volevi xuder, ti ho portato xuder volevi giocare al gioco di pirati merda, nonostante mi facesse cacare, ci ho giocato per settimane di fila che non l'ho mai fatto sulla mia esistenza mi sono sempre venuto dietro su ogni cosa e mi rompi il cazzo perché non hai voglia di leggere più di tre messaggi in gruppo Telegram vaffanculo, comunque ti ho fatto pure il gruppo Telegram dedicato grazie Alex livo tre mesi, grazie tutto meritato, grazie, gentilissimo puoi leggere solo il gruppo della Tomodashi e schippare il gruppo del pub che sta di cazzo mettermi come unico moderatore del canale grazie come si fa a fare quella cosa che hai detto le cose indiane, scusami? volete sapere chi è la vera Tomodashi? eh? volete sapere chi è la vera Tomodashi in questa storia? eccola qua la vera Tomodashi ragazzi che se inizia un gioco Kena abbiamo fatto due streaming su Kena l'abbiamo abbandonato nessuno si è lamentato Fortra è tutti contenti nessuno si è lamentato Simone ma cosa mi combinì? giocare a Fortra in server privati? 100 persone 23 minuti subito riempiti i server e vi dirò di più oggi porterò un videogioco un rage game che non è quella merda di Nanni gioco di merda Nanni stai guardando? quel gioco fa schifo l'ho scaricato per sfida ma fa schifo veramente volete vedere a che gioco giocava Nanni posso farvi vedere allora aspetto vi faccio vedere un secondo a che gioco stava giocando Nanni questo a questo non c'entra niente qua chiudo la cosa Tomodashi Crew anzi la chiudo con un'ultima frase la Tomodashi Crew rinascerà anzi nascerà perché non è mai nata grazie a me e qui chiudo va bene va il fonte di Fortnite il font night è davvero un cazzato ma ci sono per me era una roba caricata da tutti e due perché sapevano ad essere live però un po' di verità c'era comunque questa è una roba di febbraio quindi non so come sarà come sarà evoluta la cosa va bene va bene insomma abbiamo visto questo abbiamo visto quello abbiamo studiato l'impostazione dello studio se ne è venuto poco a capo perché non è così facile e direi che si può giocare un po' a Crash 3 non ho capito se era preso se non era vero era vero ma sai quando scherzi però in realtà decide o se è vero come dice la tua mamma puttana e poi magari il puttana vabbè hai visto Disney no non 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 mi ha convinto tanto quel Disney lì non non so cosa c'è visto sembra un po' una roba un po' bruttina comunque va può darsi la bella è contentissimo ma un po' in verità cioè sì no anche perché le cose che ha detto panetti mi è capitato di 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 viverle anch'io sulla mia pelle quindi riguardo a Dario quindi non è che mi viene da dire di 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 no non è vero non è vero quindi insomma vabbè attimo che metto il cavo a posto oh che esempio è è un esempio è un esempio ma che braccia c'ho ragazzi ma io c'ho delle ma non è no io ragazzi devo smettere una palestra è vero dito devo smettere no onestamente basta creste il team racing quando mai MAI quando viene vito Giulia c'è ancora Giulia Wurz ma è stato tutto il tempo lì ho avuto un blackout celebrale mi sono perso a qualcosa di interessante sì si 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 è persa un'ora e quaranta di cose belle grazie salvovila oh stasera sono carico press mettiamo giochiamo in spagnolo no si gioca in inglese perché poi non si può più cambiare la lingua ballettino di crash via ci sta mostro i tricipiti i tricipiti non so se va 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 oh ascoltami io ho pagato dei soldi ho speso dei soldi ho speso dei soldi per questa palestra io ogni tre mesi li butto i soldi per farmi fare programma personalizzato e i risultati sono questi cioè non è male non è male però secondo me secondo me dovrei smette perché basta non voglio diventa vabbè che non ci diventa sei quasi come danny qua è quel quasi che a me vabbè danny lazarin c'ha così io onestamente non non mi calderebbe essere così tricipiti acciati impossibile non flexare ad ogni singola like il problema è che ora si inizia ad andare basta flexare scusate non so che sorridio si inizia in estate con le maniche corte quindi devo smettere erico per 40 euro per questa palestra epic non fare in bordo esatto ha messo crash tra 5 minuti saremo in 60mila cambia il titolo un po' di crash un po' di crash 3 aspetta voglio vederla hai speso sordi anche per me? no 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 per emu no si la palestra non mi rimborsa tra l'altro vabbè basta c'è io che devo tenermi ferme queste questo mio questi miei maneggiamenti si si bene questi miei maneggiamenti nulle allora eravamo giunti dove eravamo rimasti e devo riattivare no 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 devo riattivare la smussatura Questi li ho fatti tutti, vero? T'altro io voglio i platini, eh Eh, no Eh, platino Ah, questo? Ah, il primo mondo? Solo il primo mondo? Ah, giusto, perché poi mi ha fatto fare l'otto Non mi ricordo chi mi fece fare l'otto 1,43 Vai uomo, come direbbe il buone Danny Aspetta, mi metto così Così magari è un po' più grande Rimetti la smussatura No, mi fa cala la smussatura Ho deciso che vado anche io in palestra Oh, io te lo dico da sei mesi Tra due anni farei definizione Penso, fra due anni non ci andrò più in palestra Cioè, l'ho fatta ora Perché volevo Non credo Cioè, mi garba, eh Aspetta, volume è alto Però Non mi ci vedo A dura per sempre Andando in palestra Perché Non lo so Non lo so Cioè, già Secondo me D'estate Il periodo estivo smetto Poi riprendo a settembre Perché Un po' non lo so Magari mi ambi In cambi Non lo so Non lo so Perché a me comunque piace Però dipende Sai Dipende anche un po' Degli impegni Non lo so Per ora Sono contento Ad esserci andato Non tanto A livello Fisico Ma a livello Mentale Perché Mi ha aiutato A parte il fatto del Covid Ma insomma Sono stati anni È stato un periodo Proprio veramente Poco divertente Però insomma Aiuta 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 Serve un po' A svagarsi No mi ha fatto bene Ovviamente Andando in palestra E qui non ci Ah Devo prendere la gemma Anche Oh comunque Ho messo Crash Siamo subito 90 Prima sarà 70 Non smettere mai Non lo so Non lo so Non lo so Si vedrà Ragazzi Si vedrà Si vedrà Perché non usi la corsa Cazzo Hai ragione Hai ragione Dovevo usare la corsa Ci pensavo più Finché a tempo Non smetto No Fatti Però per esempio D'inverno prossimo Penso sì Però d'estate Ora giugno Luglio Agosto Penso Stop Perché Ma c'è un vito Si dovevo Corre Non ci pensavo più Che dovevo Corre Quindi Un attimo Parlo Ora me la fate prendere male Ora che mi c'è pesa bene Su Ma perché vai su Su No Non ho preso il secondo Perché va sul foo Sulla lava Non si brucia No però Fa le prova a tempo Mi concentro Troppo No Oh Che area Si era bloccato Bellissimo No Non credo mi servano questi Spero Spero Oddio Mi servivano Non lo so No prendilo Usare un secondo Per fermare un secondo No 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 Cosa sto facendo Smetti di frullare Le pizze Di viso stabile Attenzione Vai 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 Si Vabbè Vabbè Il tricerato può aumentare la velocità se corri No Calcola che se ti fermi poi perdi tutto il duro lavoro che hai fatto in questi mesi Ho capito Però non è che posso andare a palestra a vita Allora io non voglio diventare di quelli grossi che camminano Si Non ci voglio diventare Dicevo non ci diventerai mai Perché comunque io Già ora mi sono reso conto che più di un tot di pesi Non Cioè quando io Sono a fare un esercizio Che magari devo aumentare il peso Per esempio L'ho fatto sempre a 40 Arriva la settimana che dio Proviamo a 45 50 Ed è troppo peso Mi viene di scendere Perché è una fatiga troppo grossa Che dio non voglia Tanto ti fa uguale Ti fa bene lo stesso Quindi Un po' per genetica Un po' per attitudine mia Non credo diventare troppo Cioè non voglio nemmeno diventare grosso Capito Cioè io già così Inizio a A di Guarda Basta eh Magari definito si però Quindi non lo so Non lo so Certo è vero se Bab No Bab no Se Bau Se smetto Un po' perdo È vero Però Boh Mi ci vedo neanche Andare a palestra Per sempre In realtà non perdi tutto Se costantemente non Toppi con l'alimentazione Un minimo minuto Si Può tranquillamente Sartare i mesi estivi Si infatti anche perché D'estate io dimagrisco Sempre Quindi Non capisco perché vuoi mettere in pausa D'estate perché ti piace Perché è cardo Perché è cardo Ed estate la mattina mi sveglio Sudato Non lo so Non lo so Magari Non lo so Mi dite Io già Avevo la certezza E vengo posto Dinanzi al dubbio Il dubbio Eh Di certo non pesi Otto mesi di palestra Eh Era meglio mia No Cominciano a urlare come Dario E quell'arte Solo che non mi sento Ah Ho capito Manco io voglio diventare grosso Come a quei tipi Però se smetti Torni secco Vabbè secco Ora secco Non lo Dinanzi Beh si Segnatevi dinanzi Il punto è che Io ci vuoi la mattina Mi rendo anche conto Che No vabbè Otto mesi No Otto mesi Ho letto lì Volevo di Non lo so Boh ragazzi Non lo so Allora devo prendere le scatole No in realtà devo andare sulla Gemma rossa Non devo prendere le scatole Poi ragazzi Non lo so Si vedrà Per esempio Io Si sto facendo Lo studio E tutto Però Nel mio futuro C'è una città Che si chiama Milano Quindi Per esempio Quando tornerò a Milano Perché ci tornerò Prima o poi Non so quando Ma più o poi ci tornerò E non credo Che mi metta Andando in palestra Anche a Milano In specie se devo pagare L'affitto Devo Fare cose Lavorare Non lo so Io di sicuro Ora Ho fatto contento Di andare in palestra Ho fatto bene E continuerò Però Non mi ci vedo Ad andare O magari Ma magari Lo so Fra 10 anni Fra 2 anni Io mi Noo Poi già ora Sono diventato un gasato Così Come avessi i bracci Figurati Io se divento Se divento Me lazzari Sono una merda Sono veramente una merda Non sono una persona Comandabile Non dovete seguirmi Cosa devo fare qui? Ok Devo scappare Ma qui è dove c'è Il percorso segreto Il livello segreto No Non è qua Non è questo livello No Oh È piano È piano È piano No No Ma ha bruciato il cul Devi No Non ci divento Ma Daniel Lazzarini Ho letto Che lui È iniziato A allenarsi A 15 anni E lui Ne ha 36 Quindi Lui è 20 anni Che si allena Quindi Non mi ci vedo Ma perché La palestra Si Garba Però Non così Da Io vedo solo La palestra Capito Perché Quelle persone lì Quelli bodybuilder Così Loro vivono Per la palestra Cioè Garba Come Passione Principale Non è la mia Passione Principale Lo fai Per l'aspetto Per la forza Lo fa Per sta bene Per sta bene Con me stesso Sia a livello mentale Che a livello ovviamente Di piacermi Sapere che piaccio E mi piaccio Fa bene Sia mentalmente Ma lo fa anche Perché andai lì Fai Segui un percorso A me Mi son reso conto Che una cosa Molto importante Che ha avuto La palestra su di me È lo sviluppo Della disciplina Che io non ci ho mai avuto Io Perché io non mi ha fatto Un percorso serio Perché io non ho mai avuto Disciplina Di Oh Il video E lo devo fare Inutile dire così E quindi Pensavo dicessi Il mio futuro Vedere una città Chiamata Zero di No Zero di X Poli Zero di X Poli Dopo quanto tempo Ho iniziato a vedere Il risultato Allora Io Faccio Un po' di robe In casa Da anni Non sono andato In palestra Da zero Sì Era una merda Quando sono andato In palestra Sono migliato tanto Però Facevo comunque Robine Non sono Cioè Secondo me Non ero proprio Zero Quando sono andato In palestra Cioè Avevo comunque Un po' di Minimo Minimo Di bracci Facevo Ero già in grado Di fare 30 flessioni Un po' di Trazioni Quindi È diverso Non mi considero Uno di essere partito Da zero Ma adesso Ho partito da 5 Non da zero Però Insomma Sempre basso Però Quindi diciamo Già dopo due mesi Ho iniziato a vedere Un po' di cambiamento Però è chiaro Se ora guardo una foto Di quando ho iniziato A settembre E una foto di ora Che Flexino Cioè Il braccio Mi è triplicato Quindi effettivamente E però Non è un braccio Di Non è il braccio Di Lazzarino Non può ambire Così tanto No vabbè Valevitis No Valevitis La palestra è bella È uno sfogo Soprattutto mentale Con la M Maiuscola Però è uno sport Come lo posso Insomma Non è uno sport Però è un Vabbè Cosa dice Lo possono essere Tanti altri Come andare a correre Per esempio Tra l'altro Proprio oggi Ho chiesto all'istruttore Se io Che in genere Vado a correre Tutti gli anni Da marzo A settembre Vado tre volte A settimana Lui ha detto Ora che ti alleni Magari vacci una volta Sola Perché Andai a correre Ti mangia i muscoli Quindi Effettivamente Cioè io ci andavo A correre Per dimagrire Per stare in forma Ma ora se già Faccio presto Non abbia senso Non farei più Certo per il fiato Però E Perché effettivamente Mi rendo conto Che quando magari Faccio un po' di corsa Veloce Perché magari devo Fa un dieci metri Di corsa Mi è il fiatone Dio Se il citone Tra due anni Non ti fa venire Senzi Sì infatti sì Però non è che posso Neanche continuare Andando a palestra Per sempre Io scherzavo Il braccio di Danny È così grosso Che il bicipite Sembra piccolo Sì 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 No vabbè Il braccio di Danny Io Tanto io penso che Cioè prendi anche Della roba Penso Non credo sia Un po' lusore Non intendo Non so Cioè qualche integratore Qualche proteine Qualche roba Devi prende Penso Poi non lo so Corsa e pesi Sono incompatibili Infatti Questo banna Chi è stato bannato Eh sì Io infatti Vabbè A cuore ci andrei Perché comunque Mi garba Però Cioè ora che già Faccio palestra E comunque Mi costa A livello di tempo Un paio d'ore Io dunque Quando arrivo lì Poi sì Fra tutto Un paio d'ore Anche due ore e mezzo Fra andare lì Fai tutto Cambiami Fai tutto Il programma Poi ricambiami Vieni via Fa la doccia Perché la faccio a casa Un due ore Due ore e mezzo Poi io me la piglio con comodo Quindi Si Si prendono Due ore e mezzo Poi la sera Devo anche andare a correre Un'arte Capito No Anche più di un'ora Quindi E anche quello Una cosa per cui dico Smetterò Perché Comunque ti prende Del tempo Proteine Creatina Aminoacidi Uuuuh Marti Lucarius 18 mesi Grazie Ho il platino Che bello Sì 18 mesi Grande Ehm E' preso il platino A livello dell'acqua No Se vuoi ci provo Ma Prendi la creatina Io non prendo niente Io l'unico Se prendo Sono delle barrette I cereali Della Kellogg No Non sono della Kellogg Sono della Nesle Sono buoni però Ah il cocco Li prendo solo perché Sono buoni Non perché C'è il kit o proteine Ma Li prendo perché Sono buoni Dinomite a livello segreto Eh sì Quello dopo Vitasnella No Non sono Vitasnella No Non sono Vitasnella Mi sembra sia Nesle però Non sono Kellogg Non lo so Mi riordo Non lo Mi riordo Perché io lì Di rionosco Perché Non so Che marchiamo Panetti e moce Hanno litigato sul serio Penso Non lo so Penso di non lo so Immagino Revolvere Ocelot Che dice la palestra Non è Una tortura Uno spoiler Quello della Kellogg Sano di giornale C'è la fibra Hai massaggiato il cibo vegano No Non ho mangiato niente di vegano Per esempio Una cosa che faccio sempre io Quando capita D'andare a Decathlon È la tradizionale Merenda A Decathlon Io se vado a Decathlon Ci vado più per fare Merenda a Decathlon Che non per comprare I vestiti La merenda a Decathlon In cosa consiste Perfetto Consiste nel Nel comprare Le barrette Quelle che trovi Alla cassa Le barrette Al cioccolato Alla banana Quella è la merenda In rinunciabile Del Decathlon È bello È bello È una bella cosa Molto carina Questa è una gag Che si fa Come mia mia Tutte le volte Che si va Morta ogni sei anni Quando si va a Decathlon Si deve No ho sbagliato Si deve Fa la merenda Barrette a 5 Non è vero Quelle del Decathlon Costano tipo 90 centesimi L'una Quindi Ma ho assaggiato Qualcosa per celiaci No non sono celiacio No quindi non so I snack del Decathlon Sì infatti Amo i miei bambini Cereali Kellogs Cosa Poco di solito Le danno Troppo per dio C'è pacchetti Da Ora un Mi riordo Di preciso Però non costano tanto Le barrette del Decathlon Anzi sono a buon mercato Cioè prendi un pacchetto Che ce n'è 5 Magari lo paghi 2 euro Non lo so Un mi riordo Sparo un numeri a caso Non un mi riordo Però Un mi riordo Che costano tanto Cioè la singola Mi sembra il 90 centesimi Forse anche meno O forse un pacchetto Da 3 Non mi riordo più Ora ci vado Ve lo dio Vabbè Vado ora Vado ora No è chiuso Se no c'è andato Il mio snack E la patata Ho scordato L'orologio No non devo fare La prova a tempo Devo fare La gemma Non quello del Decathlon Le barrette costano Sì No vabbè Quelle che prendo io Quelle che prendo io Al cocco Che mi riordo Sono Nestlé Non sto flexando Mi gratto la testa Però Che bel braccio Cioè onestamente È un bel braccio Vorrei averlo Cazzo ne ho due Wow Cosa stavo dicendo Il miglior snack È il nuovo di Pasqua E Ah questi Snackini Che prendo io Costano Mi pare Due euro Cinquanta E ce ne tre Però me ne mangio Uno Cioè quando sono Nella palestra Cioè con uno A volte anche no Tipo oggi no Quindi Con un pacchetto da 3 Ci faccio una settimana E mezzo Quindi Cioè non è che E li trangugio Vorrei avere il braccio Il mio braccio Ma so che è impossibile Io mi riordo C'è L'uovo di Pasqua Quindi che fine ha fatto È stato Sì È finito qua dentro E poi è andato nella fogna Per via che non posso svelare E Prima di mangiare la roba Della Valsoia No Valsoia no Io mi riordo Da piccino C'è una pubblicità Che diceva No al gelato Sì a Valsoia Io dice Ma cosa No al gelato Sì a Valsoia No come diceva Sì al gelato Sì a Valsoia Come diceva No mi faceva Ancazzare la pubblicità Perché diceva No io lo voglio Il gelato Quello non lo può avere Ah dici il braccio Che non posso più Guarda Guarda Ragazzi poi smetto Poi mi abito e smetto No al colesterolo Sì a Valsoia Sì Via andiamo a cercare Andiamo a cercare Devo vedere Sì con riso Ma senza lattoso Guarda Tra l'altro io ho conosciuto Perché l'hanno fatta a Lucca Ho conosciuto la gente Che ha fatto questo slogan Ho conosciuto la gente No Allora Un saluto Sì Valsoia Gelato 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 Valsoia 2006 No è roba 2004 Forse è questo Francesca e Marco Hanno detto no Al colesterolo Ma non rinunciano Alla bontà del gelato Il gelato Valsoia È buono in atto Ma poi sembra Arzu Babbo Lui Ma c'è veramente Oh che bel gelato Mi mangio Madonna Oh no È Valsoia Quella fala Del mio marito Arriva un pro bellino Ti piace Il barsoia Sì mi piace Ma non rinunciano Alla bontà del gelato Che bella merda No È buono e naturale Senza colesterolo Poi è fintissima Poi è fintissima veramente Lattosio No al colesterolo Sì A Valsoia Naturale Senza colesterolo Né lattosio No al colesterolo Sì A Valsoia Ma poi mangia l'orgelato come L'avesse Fossero appena usciti Galera Cioè come fosse la prima No se fanno Interessante in 10 anni Lei che evita addirittura Il bar È vero Non l'avevo notato Francesca e Marco Hanno detto no Al colesterolo Come minimo Non si vengono Scano nemmeno A sto punto Urge la pubblicità Del gran solari Cos'è il gran solari Via Non si ceva più a creare Gran Solari Soleil Gran soleil No quella lì No Forse è il mio gelato Buono Guarda non ho dubbio Che non sia buono O magari Ma mi dissocio No no Mi rifiuto di Di mettere Gran soleil Perché poi Ce l'ho in testa Per i prossimi 6 mesi E lui Sì Ah oh Coni Valsoia Visto che soffro Visti senza uova Sembra inizio di un Pono Mi Mi stai Mi perdono Questa era la sveglia La mattina Prima di andare a scuola Insieme alla sigla No Allora Se vogliamo parlare Di cose Interessanti Vediamoci la pubblicità Della Tassoni Ma mai un minuto Per Vito Quante cose al mondo Vuoi fare Costruire Inventare Ma mai un minuto Per Vito Per voi e per gli amici Vito Stubb Torniamo Stasera sono frizzantino Quante cose al mondo Vuoi fare Quante cose al mondo No non devo trovare la cosa Quante cose al mondo Vuoi fare Costruire Inventare Ma trovo un minuto Per me Aspetta La posso cambiare un po' così Quante cose al mondo Puoi fare No non è così Devo trovare gli accordi Fai fermo Fermo Dai Tassoni Tassoni Ucule Anzi accordi Accordi Ci sono Ci sono Gli accordi Della Tassoni Non è vero Non è vero No ci sono Ci sono Accordi di Cedrata Tassoni Non ci sono Non ci sono Non ci sono Non ci sono Allora fermo Fermo Quanti Quante cose al mondo Non è questa Quante cose al mondo Quante cose al mondo È difficile trovare Quante cose al mondo Basta Non funziona Non so trovare gli accordi Non sono in grado Faccio schifo Anzi no No aspetta Ultimo tentativo Ultimo tentativo Come non ci sono E andrebbero cercati bene Fammi sentire Sono È il mio momento Aspetta Poi lo posso Giuro Giuro Ma non mi capiterà mai più Veramente Di far Saida ha 69 anni E cerca di accudire 10 nipotini Io me ho Mi dispiace Mi dispiace Quante cose al mondo Quante cose al mondo Vuoi fare Costruire Inventare Ma trovo Un minuto Per me Per voi e per gli amici Tassoni Non lo so Non lo so Perché non mi torna E in do E in do Quante cose al mondo Non è Quante cose al mondo Quante cose al mondo No basta 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 Facendo una figura Barbina E non va bene Non va bene Mettiamo crash Riprendi Scusate Scusate Ho rovinato La mia carriera Madonna 69 anni 10 nipoti No Sono nipoti Ma non sono figli Posso dirmi La novità di Super Mario Sì Questa cosa è l'ukulele Deve andare avanti No 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 Non mi riesce Se mi dai l'accordo O entra Non mi dai l'accordo Bene Non me la sento Non me la sento Non va bene Allora Buonasera Sono deluso Sono deluso adesso Perché non sono riuscito A fare La cosa di ratassone Magari finisce la live E provo Alla prima mi vengo Aiuto Dall'altro Mezzanotte e venti Fra poco chiudo No Sono deluso adesso Sono deluso Vai via Madonna Olè Non ci si comandi Lo so Mi so scordato Attivare No via E li devo trovare L'accordo Escelo qui Escelo qui Non mi va giù Non mi va giù Che non riesca A trovarli Accordi Piuttosto Chiudo la live La riapro Quando Ho trovato L'accordo Mai Vai via No Un fan di Super Mario Ho scoperto quanti soldi L'idraulico Un altro capolavoro Era giorno e notte Giorno e notte Sì Giorno e notte Giorno e notte E 24 ore In funzione Mamma mia che schifo Ma poi voi pensate Perché è così Pensate a queste aziende Queste aziende che fanno le musiche Le musiche Tipo come anche banalmente Giorgio Vanni Giorgio Vanni è un'azienda che fa musica per le pubblicità Cioè te pensa Un'azienda di produzione musicale Che deve fare questi jingle per le pubblicità Ti chiama il cliente Oh dobbiamo fare una sigla per il prodotto Cos'è? Giorno e notte Ah E in cosa consiste? Eh giorno e notte Giorno e notte E quello scrive È una cosa Stava 24 ore in funzione Perfetto A posto Il giorno dopo Rimanda Che accordi Giorno e notte Eh brava Giovanna Brava Sì Dobbiamo guardare pubblicità Guardare pubblicità Non mi trovi paperissima Adesso ti metti A trovare a cosa Della pubblicità Dell'olio Non è l'olio La tassoni La tassoni Oh Olio Capo sbattipelo Lo sai cos'è la tassoni I produttori Dei praticamente Mangiano in grassi Dormi Dimagrici Sì che poi Non so come è andata a fin Oh devo prendere Sta gemma Non mi riesco No Nei momenti di caricamento Nei momenti di caricamento Caricamento Giorno e notte No è già caricato Vedi Cariamenti veloci Ciao a tutti Ma perché Eriko non sta portando Kirby Perché basta Lo so che bastardi Cosa Eriko metti pubblicità Giorno e notte No La cedrata Santo cielo Eh Ciò che potrebbero raccontare Le origini di Mario Basta Sono qui Davvero Hai trovato gli accordi Da tassoni È buona la tassoni Eh no Aspetta Oddio Lo trovate davvero Per voi e per gli amici Tassoni È questa È questa Però aspetta Perché c'è il sol diesis Che l'ho sbagliato Ho messo un sol normale È Sol Diesis Sol diesis Così? No Così Vero? Riproviamo? Per voi e per gli amici Tassoni G Diesis Fermi È importante trovare il sol diesis Il sol diesis È anche il Dove mi fa sol la La bemolle È vero Suonerà il mio funerale Sì Se volete Potete prenotarvi Allora Sol Un attimo Lo trovo G Dov'è G Non c'è G Non c'è G Non c'è G Sono tutti tranne che G D G Niente Tutti Sono anche G Questo G D Eccolo qui G B G B Dormi fa sol la Apriamo la La Non c'è la Ab Ab Quindi è la bemolle Allora La bemolle Scusate Dovrebbe essere questo Sì c'è un leggero Lo so C'è sempre un leggero di lei Fra me e l'audio Che sentite purtroppo è così Cioè io lo sento bene Voi no Mi dispiace Proviamo Proviamo a fare questo Allora Quindi è così Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare In realtà inventare Ma trovo Vedi il Sol Minuto per me Ma trovo Com'è il Sol Com'è il Sol diesis Ma trovo Come deve suonare il Sol diesis Ma trovo E così L'ho trovato da solo il Sol diesis Ma non è così Ma non è così Bello st'accordo però Facci due arpeggi L'ho fatto Per esalti canta con la voce del Gabibo Bellandi Bellandi Quante cose Si può Si può fare Bito stai Bito stai Ma trovo No non è questo Non è questo Ma trovo Non è questo Devo trovare il Sol diesis Non è possibile che non ci sia Fermi 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 U Kulele Swords Un attimo Ukutab Ecco Sa fare la mappa di Rama Sì Dove sono i miei applausi Dove sono i miei applausi Faccio cacare il cazzo E' bello però C'ho messo E' uno Questo Tra l'altro Imparai l'ukulele Proprio ai tempi Di Di Rhyman Origins Quindi Imparai proprio con la sigla Di Rhyman A suonare l'ukulele Fra le Fra le altre Tra i marti brani del cazzo Quindi Se volete Sol Eh no Do Fa Sol E sono tre accordi Alla fine E' una cazzata Però Bellissimo E' sempre una gioia Veramente E Dunque Devo cercare G Accordi E' G Di Esis Il sol Di Esis Allora Chords Ulchords Rumore di applausi Non l'ho finito Kirby No No ma Si vedrà Si vedrà Devo trovare questo cazzo Di sol Di Esis Non è possibile Che non ci sia Ukulele G Cancelletto Fai Cancelletto Cancelletto Come si fa il cancelletto Su Windows Come cazzo si fa Oh non mi riesce Com'è Ma come Beh Trovato Allora Dunque G Diesis 2000 Uno per esempio E' così E' così Non mi torna Non mi torna Un altro invece è così Ci sono diversi di accordi Che è lo stesso accordo Così Questo ci potrebbe stare Vediamo un po' Quante cose al mondo vuoi fare No aspetta Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare Ma trova Questo ci sta Ma trova Oppure Aspetta Qual era Uno era questo Oppure questo Ma trova Ma trova Un minuto Ma trova Questo è Ma trova Un minuto O se no Al terzo tasto Sì Questo è Oppure così Così anche Così Questo 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 vede Questo Non si vede Il talento di questo Allora Lo sono già scordato Ok Quante cose al mondo puoi fare Costruire Mi torna il ritmo Inventare Ma non era così Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare Che tra l'altro questo è canto Mi sa che è Ramina Credo Inventare Che c'è la doppia voce Che c'è la doppia voce No non era Ramina All'inizio era Ramina Poi la cambiarono Che si vede La sua ordine Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare È così E per gli amici Video stop Allora è così E non mi riesce immediato Perché non sono abituato Facciamo che suono solo Le ultime tre corde C'è questa stona Dovrei essere Dovrei suonare Tutte e quattro Però Allora Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare Ma trovo No no Fermi 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 Perché il ritmo è difficile Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare Ma trovo Un minuto Per me È difficile Sol Di Mi riesce Un po' naturale Allora Fammelo riprovare Poi smetto Vado a letto Quante cose al mondo vuoi fare Costruire Inventare Ma trovo Per voi E per gli amici Però è bello È bello come passaggio Così Cioè È una bella La melodia Anche come accorre Senti bello Petro Lo faccio senti meglio Sentilo È bello È bellissimo Questo passaggio Non ti spiega niente a nessuno Di queste ansie Mi salgono anche a me Perché Che succede La voce di Mina Rimase nello spot Fino a 86 Quando poi fu sostituita Quella di Giulia Fasolino Vabbè Ma chi c'è Abbiamo una 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 redazione Che Danny Lazarin Se la sogna Veramente Vi vedevo già la postale Cosa state Confabulando Le musiche di Spongebob Sì ma Non ne so Non so nemmeno una E Lavoro Ok Allora Ripeto Ripeto Devo imparare Devo imparare Bellissimo Aspetta Vi abbasso Non vengo manco Pagato Eh Fra poi mi paga nemmeno me C'era Vito Stabile Che prendeva le pizzette Scriviamo una canzone Scriviamo una canzone Eh Giustizia per Vitis Massimo esponente della tassone Uno che lavora per Sì Sono sicuro di aver sentito questo motivetto Una canzone metal Davvero? Questo qui? Comunque abbiamo perso gente Si perde gente Bello 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 Sto Rhyman No Regions Noi vogliamo Karsh Orecchie da mercante Avete il terzo membro Il gruppo Sì Vabbè no Eye of the Tiger Eh No No Mai provato Non ho idea Se sia difficile Proviamo Ma 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 te dici No Come fai Stand by me Cos'è stand by me Stand by me Stand by me No bimbi Io volevo gioare Non si è giocato un cazzo stasera alla fine Facciamo live su Rhyman Legend Una volta si fece Sarà un trenta Posso cambiare il titolo No 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 Aspetta Pio Grazie Nerd Master System Benvenuti Anni fa mi ci mettevo Così Sulla fortuna Ci perdevo le ore A imparare gli accordi Per esempio No La differenza fra Do minore e Do maggiore Questo è Do minore Perché il minore ti dà un senso di È minore Cioè ti dà un senso di inquietudine Il Do maggiore Ti dà un senso di Di rivalsa Di gioia Di fine Di punto Do minore D'incertezza Lo stesso il Mi minore Senti È triste Il Mi minore è una specie di versione triste del Sol Che il Sol minore è così Il Sol minore è un po' una via di mezzo È un po' Il Sol maggiore Senti Ma ecco il Do Che si va a chiudere Punto Quante cose al mondo Puoi fare Costruire Inventare No Inventare Ma trova un minuto per me Fatta male Ho sbagliato Dove riprovare Aspetta Inventare Ma trova un minuto per me Per voi e per gli amici Video stop Da quello che so Da dilettante Ne conosco il nome di accordi maggiori Sono per le scene più impattanti O cupo Mentre accordi minori Per le scene Allegri e poesie Sì E poi c'è Hans Zimmer Che fa le note così Cioè Hans Zimmer Fa le onore sonore O sì È come una nota Cioè lui prende Un ukulele O strazia Con una sonora di Hans Zimmer Oscar Io sono un po' stanchino Ci vediamo forse domani A domani non c'è live O comunque Hans Zimmer È grandissimo Però È un grande Si può scherzare sui grandi Questo è uno dei miei accordi preferiti Il si bemol Ci metti un fa Non, aspetta Non, sapevo far Non, sapevo far Paradise Basta, basta Vado a giocare un altro po' Adesso Non mi chiudo In me medesimo Zimmer non aveva fatto Jurassic Park No, no Zimmer Jurassic Park Che di John Williams Zimmer ha fatto Vabbè Il Re Leone E Ovviamente Tutti i film Di Batman Un sacco di film Di Nolan A Nolan L'ha fatti Credo quasi tutti lui Ha fatto tante Tantissime Ma non Non Jurassic Park Williams Che è cretino Sì No Cretino no Però E Da Facciamo sto livello Poi vado a letto Che devo andare a letto Anch'io Si è spento il pad Scusatemi Quante cose Al mondo Vuoi fa Oh Fare Costruire Inventare Non devo rompere le scatole Devo prendere Generous Ma se mi Che sarebbe Suonare A me Il piano Che sarebbe Sapesse Il piano Avelo studiato Calabria Elettrica Bellissimo Grazie Come mai Siete arrivati Così Da sorpresa Grazie La colonna Ah vero Anche la colonna Suonare In crisis Sarà di Anzime Ragazzi Stam piccina Dicevano Che avevo Mani perfette Per suonare Piano Anch'io Ma in realtà Io credo Avecere Tuttora Le mani Da pianista Però Non so Suonare piano Non è che Basta Ave le mani Bisogna Anche Studiare E Suonare piano Che sia difficile Ma in realtà Suonare qualsiasi Strumento Bene È difficile Cioè Difficile Bisogna studiare Non è una cosa Cioè Anche l'ukulele È chiaro Io Non è che lo so Suonare Lo strimpello Però Per sonicchiare Quelle cose Lì mi ci ho voluto Lo stesso Quindi Suonare È una cosa Complessa Che richiede tempo Se io Io che L'ukulele Ho iniziato Nel 2012 Ma Non è che Sono stato 10 anni A suonarlo Se l'avessi suonato Ogni giorno Per 10 anni A quest'ora Sapevo fare Delle robe Incredibili Ma non è così In tutto Non lo so Quanto L'ho mai suonato Ma Poi Sono stato Anni Senza mai Toccarlo Quindi E così Va a momento Ho rinunciato A toccarlo Ora Con le live Ora Insomma Quando Con le live Pelo meno La base La pianola Eh Sì Però Non so Cioè se io Dovessi iniziare A piano Mi ci vorrebbe Un po' Prima di Di Penso Cioè io Ti so anche Trovare le note Fattele Se mi ricordo Un Conte Sono Davvero Una Sostiera Quanto manca Ah Ah Meno male Meno male No Guarda Era lì Almeno così dicono Io anni fa suonavo la tastiera piano mai toccato La suonavi piano Io con un dito prendevo due tasti alla volta boia Che dito ci avevi Due tasti Che livello ma bello e divertito eh Dio la verità La verità Quanto è bello sto dinosaurio però Minaccioso al giro No Non è un dito è un dito grande Per i tasti grandi Per suonare I tasti grandi ci vogliono i diti grandi L'ultima cosa che ho suonato è il flauto alle medie Ah Vabbè il cinofono Sì il flauto anch'io alle medie lo suonavo E mi garbava anche Mi ricordo una volta ci fecero fa La musica del Titanic E mi ricordo che la sapevo fa Grazie Sara Quattro mesi Ben grazie Ben grazie E Sai no la canzone del Titanic Dio bon si Lo diamo il flauto Simentù Ma a me mi garbava A me Sbola la musica Probabilmente io sono un talento Non ho mai sbocciato Probabilmente Oh Ci sta eh Perché a me All'emmenza già Non per vantare Non c'è vanto Ma lo sapevo suonare Mi ricordo La maestra Mi diceva bravo Quindi Oh E Quindi Poi mi ricordo che A casa mi garbava Proprio suonare E allenarmi Al flauto E suonarlo un po' in casa Fa bella figura Quindi può darsi che Dentro di me Si scela Un talento musicale Mai espresso Perché non ho mai studiato musica Chissà Non lo sapremo mai Perché mai studiare musica Forse dovrei studiare musica Anche io Titanic a scuola Ma anche flash dance Enrico pianista Mi calperebbe suonare piano Ma Mai Vado a studiare piano A me il flauto piaceva Ero anche bravo Ma non ho mai coltivato la cosa Sì perché alle medie Anche lì Anche se ti piace Ma lo fai Perché lo devi fare No perché ti garba Capito Poi E' in quell'età lì Che bisognerebbe Cortivada La musica fa dei corsi Un po' di lezione privata Di Di piano Insomma Di chitarra Soprattutto E poi Cioè Ma forse Forse anche tutti gli strumenti Però insomma la chitarra Io Mi sembra che Chitarra ukulele Insomma Quelli di buono La chitarra è un po' più complessa L'ukulele Però Sono strumenti che Una volta che inizi Ci prendi la mano Poi Non è difficile Oh No Dai Ma sei un imbecille Però Ma anche schiacciato Ma allora Dio Il flauto piaceva Ok Sì A me Scusa Oh Eh A me piaceva suonare il flauto Il problema è che Il professore amava il blues Il blues Quindi ci faceva improvvisare Mescolando insieme Cosa di Mamma mia Diverse scale o note Che si abbinano insieme Che di per sé è interessante Ma il flauto barocco Non è un sassofono Sono astante Cioè Faceva fare concerti Cioè Whiplash proprio Whiplash è bellissimo Lo devo alflauto Lo volevo troncare Intesa proprio Sì La chitarra volevo imparare Dopo The Last of Us 2 Non ci sono messe Eh Ha perso un'occasione A me sarebbe piaciuto Suonare la chitarra elettrica I miei non volevo Perché faceva Ecco Ecco Questa cosa non va bene Questa cosa Sì Io capisco che Però non va bene Tarpare le ali Così subito Dio santo Fallo suonare Più che altro Mettiti Un'aitarra Di velle Di velle Che ci vuole Le cuffie Insomma Così rompioglione a nessuno Con questo facendo schifo Ma forse non riesco A concentrarmi In live Con Crash Perché Non è che io Non sono solito Fare così schifo A Crash Metti Metti No Non devo correre veloce Perché piglio la lava No No Oh mio Dai E' un son Un son Un son Sto facendo Veramente Ca Che non ho Voglia Non c'è Sì E no Ho voglia di So in via Di chiacchiere In questo periodo Non ho voglia Di giocare Vedi Sto giocando Contro voglia I risultati Sono questi Che non c'è Versi di completare Crash Io Pandera Pandera Ti manca solo Il signore dei dinosauri Sì Il signore dei dinosauri Che è Chi non sapesse E' Vito Stabile Perfetto No Stabile è il signore dei paperi Basta Dai Ci chiamiamo di Per fare sta cosa Ma Vito è andato via E' apparso prima E poi è andato via Aspetta Vi metto i commandi Vi metto i commandi Visto che siete così Partecipi Bravi Fai tolchino Si è fatto tolchino Tutta la sera Ora arriva Non è appena Si avvia l'app Si parla tutta la sera Alla fine è stata una bella live Cioè Non volevo Non era neanche in programma Stasera live Mi sono divertito Più delle ultime due Quindi Bella live Si è visto panetti Che smadonnava Mamma mia Ma perché vado sempre lì Sono sui commandi Sono un coglione Vito è come l'idraulico Di Reshet Appare Si 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 è vero Se lo rivediamo Fino al prossimo Appuntamento Il prossimo sequel Devo giocare a modo Pensate che ero arrivato Alla fine E non l'ho preso Si sono anche visti I studi Si Capologhi Concentrati Si E che va Va veloce Io ho furia di fini E uso la corsa veloce E piglio le Le lave Si Via basta Basta Ma come conosce il principe dinosauri? Va bene Mai sentito Never heard Cosa Se lo volevo fa Non mi veniva Vaya Sargo Vaya Questa Vaya Vaya ales Vaya small sword si non mi ha visto però lo non so perché non prendo le mele una mela me la dai oh per dio non devo correre veloce vai piano non andare nella lava levati checkpoint oh tonne difficile oh via di qua io ragazzi e il principe di usare un film di mondo tv ma cos'è mondo tv non lo voglio sapere 2000 va bene allora andiamo a fare livello rilassante andiamo qua quanto era bello l'effetto metallizzata sulla scritta nel cortex nel core system allora posso fare solo questo vero skycraze ecco qui è interessante perché skycraze in realtà non è hotco questo è skicraze skicraze era il nome di uno dei primissimi giochi in autodog che che qui le facevano due Andy Gavish sono i rumini in garage mondo tv e la casa di produzione di film italiani la cui titanic e tentacolino che vediamo i video ah tentacolino meraviglioso no i cartoni della star stardust io ce n'avevo uno uno di Aladdin mamma mia che schifo è un gioco per apple 2 può darsi era di velli vecchi anni 80 starto skicraze forse è addirittura proprio il primo primo non mi ricordo si comunque è roba si forse era per l'apple 2 oh amiga no apple 2 si l'ho lasciato mi sa l'ho lasciato bellissimo però incredibile veramente bello cioè io resto ammaliato dall'acqua che che è bella da vedere nonostante sia roba vecchia eppure è convincente oh non cioè è bella davvero è molto simile a quella di Jack no no se mi ricordo dopo ti devo fare una domanda e dimmelo scrivimelo ora in privato inutile arrivo dopo una giocata a crash 4 a crash 2 e 3 hanno ancora eh oh si sono già infatti bene tutto il discorso e ce n'era uno fin anche di titanic invece tu ritramoizzavo le mie sorelle maggiore con la bella la bestia e la star la bella la bestia e la star si ma infatti erano proprio brutti cioè brutti era una roba proprio ship il fantastico mondo grazie andrei in twitch quando porti re village ah re village qual è l'otto vero ah non lo so no si vedono non voglio quando capiterà quando arriverà il momento propizio il momento propizio bello no non più voglia quello con la vampirone eh rivedendo questo livello ricordo il bacino precarzo oppure la zona diciamo che secondo me è chiaro che jack viene dall'ispirazione cioè dall'ispirazione jack nasce da la prosecuzione tecnica di questi livelli di coco è chiaro è chiaro che naughty dog ha sempre lavorato così è così che bisogna fare cioè fare cose in base a a delle eh niente a delle cazzate che faccio io in base a delle degli sviluppi tecnologici che stai facendo insomma per quello jack di per sé è l'evoluzione di crash è lanciata l'evoluzione di jack per quello perché punti sempre a a inserire qualcosa che ti evolve quello che c'era prima cioè jack ha inserito la storia un gameplay più dinamico un'espansione dei livelli delle aree e uncharted ha inserito una narrazione cinematografica è un mood più adulto della sto base ha migliorato ancora di più uncharted quindi per questo dico un prossimo una prossima evoluzione di naughty dog deve essere o torna indietro migliorando quello che non aveva già migliorato prima cioè che non aveva potuto migliorare perché non aveva mezzi oppure fa prende cerca di andare da tutt'altra parte per questo io dico che secondo me il prossimo gioco una nuova ip di naughty dog sarà un fantasy per questo perché proprio per staccarsi dal dalle dalla realtà dalle redini dal vincolo della realtà c'è bisogno di un'ambientazione fantasy e lì si potrebbe innovare se non è poi oh naughty dog è perfetto ci starebbe un sacco un fantasy io guarda ci scommetto io sono pronto a scommettere che il prossimo ip la prossima ip naughty dog è un fantasy perché si cioè sembra quasi naturale è un'evoluzione naturale poi magari esce davvero un gioco di golf oppure un gioco di corse di naughty dog sai gran turismo di naughty dog c'è da scoprire cosa fa naughty dog speriamo d'estate di sapere qualcosa dio bo uh sì però queste due casse messe che ci devin da due volte è un po' una bastardata ma ma mia No Aspetta Aspetta forse devo passare così Tanto che in un gioco C'è il Crash 3 originale Con l'intenzione di completarlo Però è bello Questi livelli sono bellissimi I livelli di Coco Sono stati miei preferiti I Crash 3 Sono proprio iconici Rappresentano tantissimo E quelli della moto Ma forse Più di tutti quelli di Coco A parte A volte rappresentavo un raggiungimento tecnico Indifferente Non mi chiedo più Dai No Che schifo Che schifo Sì No Quanto dura Piano Piano Oh Oh merda Bene I rumori di questo coso Lo stesso Lo stesso che zoom Di Jack No però è simile In un video Qui su youtube Uno che lavora Tutto su roba Ha detto che non vedo L'ora che mostri Il futuro di Crash Eh Anch'io non vedo l'ora Che lo mostrino Però lo mostrano È da settembre L'anno scorso Che hanno detto Sta cosa C'è molto presto Molto presto A casa tua Quanto è molto presto È da qui a 20 anni Quanto è molto presto Molto presto È nell'arco Di un mese Due No Settembre Ancora non si sa niente Via Io vado a letto Bimbi Che pro Insomma Non tanto Pensandoci anche Lo stesso Anciate 4 Integra l'evoluzione Le form Eh Anciate 4 Prende delle evoluzioni Della Stovas E Della Stovas 2 Prende l'evoluzione Della Stovas 4 È tutto Nasi Dog È tutto una catena Un gioco Porta all'altro Il gioco prima È stato fondamentale Per il gioco dopo Il gioco dopo Non era venuto così Se non era più gioco prima Non è come Non lo so Altri casi Che fanno quello Poi quello Poi quello Poi quello Ma ti do Ognuno è una catena Ogni gioco è una catena Uno Non esclude l'altro E Via Io chiudo Possiamo dire Che in un certo senso È confermato Sarà Vabbè sì Boh Anche lì Magari Poi Si è fermato tutto Sono salvato Mi ricordo Già più Sono salvato Non sono sicuro Avevo salvato Io risalvo Sì ho salvato Buonanotte Domani niente live No Domani niente live Ok sono in giro In giro Crash Bando Teletrasportato Premere star Per iniziare Domani sarei rimasto a casa Perché la Eh vabbè mi spiace Non ci sono Come insommia Chi ispiro 3 Hanno messo gente 9 Sì sì anche insommia Che più o meno Lavorano Così Poi hanno avuto Però un periodo Un po' triste Insomma però Ne sono ampiamente Usciti Meno male Via Buonanotte Ci si vede Non lo so Si vede un po' O lunedì O martedì Non lo so Sono un ragazzo sordo Non so se ti ricordi di me Comunque puoi scaricare Mi spiace Quindi come fai a sapere Che ti sto rispondendo Non so linguaggio e segni Puoi scaricare Crash Bash Mi manda troppo Manca troppo Eh si giocò Con B Lo abbiamo giocato Con Vito L'anno scorso Quando è stato L'anno scorso No A Milano Con Vito nel 2020 Vero La B Eh vabbè Lo abbiamo giocato Sì Via Bimbi Finalmente posso smettere Di flexare Ci si vede In futuro Raidino Ci sta stasera Raidino Vediamo chi si può fare Buon riposo Fustacchione Ultima flexatina Della serata Oh comunque Dai Fatemi Dai E' no te E' no te Sono E' gal Basta Devo smettere Dovete dimmi Che fa schifo Così smetto Perché se mi date corda E' finita Esatto Allora Raid Chi c'è Qui non sono No sono Non c'è nessuno Stasera Ma C'è nessuno C'è un po' di gente Vediamo chi c'è Boh Non lo so C'è qualcuno Avete un'idea? Ha già flexato Muscovi nel video Sì Tra l'altro Era Guarda mi son pentito Di aver lasciato Quella La volevo levare Mi son pentito Di aver messo Io che faccio L'imbecilo Nel video di oggi Vero E' sì Se è bellissimo Dio che muscoli Altro che anima Nel suo nuovo post Via Andiamo a vedere Lo voglio vedere Anima Nel suo nuovo post Andiamo a vedere Instagram Intanto Non so se sono logato Vediamo Non sono logato Benissimo Accedi Così non mi avevo Rubato la password No Perfetto Allora aspetta Andiamo a vedere Perché io l'ho cambiata La password Ci sono termosifoni Su The Sims Ok Sì Sì Andiamo a fare termosifoni Aspetta Termosifoni I termosifoni The Sims Perfetto Allora Facciamo Termosifoni Però Voglio anche Vedere anima Prima Aspetta Instagram Di altri D e like Mentali Che mi sono Che dai C'è uscito un video Sì Comun Comun arriva le notifiche Non arrivano le notifiche Mannaggia 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 Allora Anima Ma si chiama Anima Ah Luca Zaccia Luca Zaccia Zaccia No io non ci credo Io non ci posso credere Non ci posso credere Che a Valeviti Si ligarmino queste cose C'è Ma veramente Aspetta 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 Non ve lo favo neanche a voi C'è Ma dai Sasha C'è Cos'è Cos'è No non lo state vedendo Scusate C'è Dai Ma perché C'è Io veramente Mi sento cretino Perché faccio così E poi c'è lui Quindi C'è Posso far così Vedi Ma perché Una foto così Ma perché Ma poi Ma cos'è Arrivo in un momento Sbagliato Sì A parte si sta chiudendo Va bene Non sono nemmeno loggato Quindi niente Via Meglio così Meglio se non sono loggato Mi dispiace Ma non mi dispiace Buonanotte Sento una presentazione Di crisi Eh lo so Quindi Posso flexare Posso flexare Mi sento giustificato Raida Termosifoni E di colpo Sì è vero Anche Isabella Arriva così Si mette due petturali In vista Isabella arriva Come mai Come mai Buonanotte a tutti Cringissimo Mi sembra cattivo gusto Non lo so Buonanotte Via Ci si vede Lunedì e martedì Non lo so Buonanotte E passate Un buon primo maggio Mi raccomando Giuro che mi facca Parole tue Parole tue Buonanotte Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti